Ci raggiungerà, lo inseriremo in questa stanza virtuale. Allora direi che possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo settimo webinar organizzato congiuntamente dall'associazione gfos.it e dall'associazione GEAM e patrocinato con la supervisione scientifica del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e dell'Infrastruttura e del Politecnico di Torino. Oggi appunto è il quarto webinar del 2021 di questo ciclo di incontri che abbiamo organizzato a partire dal mese di novembre 2020 fino alla fine di maggio 2021 e ovviamente tutto ciò verrà comunque sempre svolto in modalità online a causa della situazione pandemica di cui ovviamente tutti siamo a conoscenza. Mi preme altresì ringraziare anche il Mastering e Science Sistemi a Pilotaggio Remoto perché mette a disposizione questa piattaforma, questa stanza virtuale per l'erogazione non solo di questo webinar ma anche di quelli che hanno preceduto l'evento di oggi e quelli futuri. Quindi ovviamente un ringraziamento va anche a loro per la loro disponibilità e la loro collaborazione nell'organizzare gli eventi. Vi ricordo che i webinar, quello di oggi come tutto il ciclo di incontri che abbiamo organizzato è a titolo gratuito ovviamente, quindi non ci sono, non vengono richiesti i costi di iscrizione a meno che appunto non si richieda il riconoscimento dei crediti formativi professionali per cui dietro a questa richiesta ovviamente quello che vi chiediamo è di versare un piccolo corrispettivo per la gestione delle spese di segreteria. Vi ricordo che i webinar iniziano ad essere disponibili anche in modalità offline sul canale dell'associazione gfoss.it potete trovare le registrazioni dei primi webinar per cui chi se li fosse persi o chi avesse piacere di rivederli può ovviamente andare a seguirli e a rivederseli. Vi ricordo ovviamente che anche il webinar di oggi è registrato quindi partecipando anche come uditori al webinar stesso voi acconsentite alla registrazione e quindi all'eventuale poi vostra possibilità di intervenire in maniera orale e rimanendo registrati. Il webinar verrà poi reso disponibile sempre sul canale dell'associazione il link lo trovate nella pagina web dei seminari nelle prossime settimane non appena appunto verrà fatto un minimo di editing per renderlo fruibile a tutti. Non voglio rubarvi altro tempo, vi ricordo solo che sebbene i webinar siano gratuiti i rinnovi alle associazioni sia geam che gfoss.it sono sempre fattibili anzi vengono sempre caldeggiati così come le donazioni perché vi ricordo che entrambe le associazioni sono associazioni senza scopo di lucro hanno come obiettivo quello di fare informazione prima ancora che formazione per cui quello che vi chiediamo è se è possibile di supportare le associazioni effettuando le iscrizioni, nuove iscrizioni o rinnovi e eventualmente se è possibile anche effettuando delle piccole donazioni. Non essendo associazioni con scopo di lucro ovviamente tutte le donazioni che vengono fatte vengono poi utilizzate per investire sulla promulgazione, diffusione e sul supporto al software geografico libero free ed open source. Non voglio rubare ulteriore tempo ai relatori di oggi perché il webinar è interessante e denso di contenuti vi ricordo che il titolo è OpenStreetMap e che il webinar è principalmente rivolto a chi ha familiarità con i dati geografici ma non conosce bene o non conosce a fondo oppure lo conosce ma solo in parte perché non ha mai utilizzato i dati di OpenStreetMap. I relatori sono Marco Minghini e Alessandro Sarretta che conoscete immagino tutti non hanno assolutamente bisogno di presentazione perché sono due pietre miliari in queste tematiche nel mondo dell'open source soprattutto del software geografico per cui non voglio rubare altro tempo a loro li ringrazio ovviamente a nome dell'associazione gfos.it e dell'associazione GAM per il loro tempo e le loro competenze che mettono a disposizione nostra e per insomma aprirci un panorama e una finestra nel mondo di OpenStreetMap che ovviamente non potrà essere condensato in quattro ore ma che sono certo che riusciranno a farci godere e fruire al meglio. Vi ricordo che le persone che hanno piacere di intervenire lo potranno fare nelle modalità che i relatori ci segnaleranno vi chiederei per una questione di correttezza e di cortesia di mantenere sempre i vostri microfoni disattivati e le vostre webcam spente qualora qualcuno dovesse uscire dalla stanza per qualunque motivo sappiate che gli ingressi sono comunque presidiati per cui potete essere riammessi anche in un secondo momento non fatevi problemi. Lascio la parola ai relatori che ringrazio e buon webinar a tutti. Grazie Paolo Grazie Paolo Condivido lo schermo e possiamo partire Mi confermate di vedere la prima slide con il titolo i nostri nomi e di sentire la mia voce correttamente chiedo a Ale e Paolo Sì perfettamente grazie Allora intanto grazie Paolo per l'introduzione anche per tutte le belle parole fin troppo belle noi siamo semplicemente due appassionati di OpenStreetMap e cercheremo di presentarvi il progetto in quattro ore in un pomeriggio anche se come diceva Paolo ci sarebbe da parlare per giorni probabilmente o per settimane quindi cercheremo soprattutto di farvi incuriosire di farvelo piacere per poi ecco magari darvi quell'input che vi servirà per volerne sapere di più o per mettervi in contatto con la comunità per iniziare a mappare per iniziare a usare i dati qualsiasi cosa Una brevissima presentazione di chi siamo Allora parto io poi lascio ad Alessandro Io sono Marco Minghini lavoro attualmente alla Commissione Europea al JRC Joint Research Center che sta a Ispra in Lombardia Sono un esperto di GIS GI Science ho lavorato per un po' di anni in università al Politecnico di Milano e al momento mi occupo di infrastrutture di dati spaziali di standardizzazione in ambito geografico di data interoperability data sharing e soprattutto lavoro nel team Algersey che si occupa dell'implementazione tecnica della direttiva Inspire che penso tutti conosciate e appunto sono appassionato ma anche ho fatto tanta ricerca proprio sul BGI quindi Volunteer Geographic Information di cui OpenStreetMap è un esempio classico e lo vedremo oggi contribuisco a OpenStreetMap da qualche anno sono un membro della comunità italiana sono anche membro della fondazione di OpenStreetMap e in particolare anche del working group che si occupa dell'organizzazione del convegno di State of the Map e questo in brevissimo lascio ad Alessandro per qualche parola su di lui grazie mille Marco e buon pomeriggio a tutti e grazie a Paolo che ci ha introdotto e sì io sono condivido varie cose appunto con Marco adesso sono attualmente ricercatore al CNR a Padova presso l'Istituto di Ricerca e Protezione Idrogeologica e mi occupo di GIS sistemi informativi territoriali pianificazione spaziale marittima negli ultimi anni e interoperabilità standard ho lavorato negli stessi uffici in cui lavora adesso Marco a JRC per alcuni anni quindi anche su direttiva Inspire quindi standard geografici contribuisco da qualche anno anche a OpenStreetMap sempre un po' di più negli ultimi anni attualmente sono coordinatore nazionale per OpenStreetMap per Wikimedia Italia aggiungo in più rispetto a quello che c'è scritto che sono socio GFOS quasi dagli albori e orgoglioso anche che l'associazione abbia creato questo canale di informazione molto efficace e molto attivo ti ripasso la parola Marco grazie Alessandro abbiamo preparato una piccola agenda che non vuole assolutamente essere troppo fiscale o rigorosa non cercheremo di rispettarla al minuto però è per darvi un'idea principalmente di che cosa vedrete questo pomeriggio quindi abbiamo fatto stiamo facendo questo welcome questa introduzione dopodiché avremo una prima parte che se vogliamo sarà un pochino più teorica sarà un po' l'unica parte veramente teorica del workshop è necessaria perché vogliamo introdurvi un pochino che cos'è OpenStreetMap e poi il modello dati di OpenStreetMap chiaramente sono parti abbastanza importanti se non essenziali per poi capire tutto quello che viene dopo poi nella sessione 4 Alessandro queste due sessioni le farò io appunto poi arriverà Alessandro vi parlerà un pochino di come si modifica OpenStreetMap quindi come si contribuisce e poi con me invece avremo una piccola parte hands on quindi una piccola parte veramente pratica in cui proveremo a inserire dei dati in OpenStreetMap questa è un pochino la prima diciamo faccia del workshop cioè far capire come si fa a contribuire a OpenStreetMap perché sono sicuro che molti ormai tutti conoscono OpenStreetMap sanno di che cosa stiamo parlando ma magari non hanno mai messo le mani sul database quindi vedremo veramente i primi passi come si fa come si inizia e questa prima parte si concluderà con un quarto d'ora se riusciamo ad arrivare in tempo ma cercheremo naturalmente di tenere del tempo per una sessione di domande e risposte e infine avremo un piccolo break fisiologico per poterci rilassare un attimo importante durante durante le presentazioni soprattutto durante quelle più teoriche se avete qualsiasi tipo di domanda fatela nella chat la persona tra me e Alessandro che non starà presentando presidierà la chat e cercherà diciamo per le domande più puntuali più sintetiche di dare una risposta direttamente in chat quindi risolvere al volo eventuali dubbi per quali magari un pochino più complesse o lunghe da rispondere vedremo poi di affrontarle e magari condividerle con tutti nella sessione di Q&A per la seconda parte lascio ad Alessandro magari l'introduzione sì la seconda parte è più pratica della prima anche se contiene degli elementi di contesto comunque informativi e si rivolge una volta capita la struttura e come eventualmente contribuire si guarda dall'altra parte come utilizzare le informazioni che sono contenute in OpenStreetMap con degli strumenti specifici che sono stati creati e sono utilizzati nel mondo OpenStreetMap e poi con degli strumenti GIS probabilmente più comuni a molti di voi che state seguendo come QGIS quindi come portarli dentro al mondo GIS per riutilizzarli e infine un'ultima sessione su come analizzare la qualità dei dati o come aiutare a migliorare i dati che sono contenuti nel database OpenStreetMap e controllare che l'informazione e la mappa cresca di qualità invece diciamo che arricchirsi di eventuali errori o inesattezze e poi si finisce con anche qui una sessione di domande risposte su queste sessioni più interattive più pratiche in cui faremo vedere come si utilizza del software o degli strumenti probabilmente ci sarà maggiore possibilità di interagire al volo cioè se avete delle domande continuate a utilizzare la chat e magari interromperemo ci interromperemo reciprocamente io e Marco per fare delle domande che magari vi vengono in mente al volo e che possono aiutare a comprendere meglio lo strumento o l'azione che si sta facendo passo grazie Alessandro quindi sì avete visto praticamente le due parti sono più una legata a come si contribuisce e la seconda è come si usa OpenStreet quindi credo che chiunque insomma stia partecipando al workshop sia interessato da almeno una delle due parti perché questo è quello che vedremo soprattutto ripeto per chi conosce OpenStreet ma almeno come concetto quindi sa dell'esistenza ma magari veramente non ha mai contribuito o mai usato i dati quindi questo è lo scopo che ci prefissiamo qui diciamo più in maniera un po' più rigorosa vedete elencati gli obiettivi formativi quindi quello che se tutto va bene saprete fare alla fine del workshop quindi capire un pochino la natura di OpenStreet ma perché nasce perché esiste capire un attimo il modello dati di OpenStreet ma fondamentale per poter usare i dati o per capire come si fa a contribuire al progetto quali sono gli strumenti per farlo scaricare e utilizzare i dati di OpenStreet in un software GIS principalmente QGIS ma vedremo in realtà come scaricarli da una miriade di applicazioni usando una miriade di strumenti diversi e infine anche qualche nozione sulla qualità dei dati OpenStreet e alcuni strumenti per controllarla quindi questo è quello che ci aspettiamo e che potete aspettarvi dal workshop Prima di iniziare ecco questo lo diciamo soprattutto per non farvi perdere tempo successivamente nel caso vogliate seguire diciamo le sessioni più pratiche chiaramente non siete obbligati a seguire e a cercare di replicare in tempo reale tutto quello che stiamo facendo anche perché questo workshop sarà registrato quindi avrete modo di rivederlo e di provare a seguirci negli esercizi però nel caso vogliate provare a seguirci in tempo reale ci sono due cose da fare per la parte di contribuzione OpenStreetMap create un account per creare un account andate sulla pagina OpenStreetMap.org in alto a destra c'è un pulsante Sign Up o in italiano dovrebbe essere Registrati cosa ancora più importante perché richiede più tempo per la seconda parte del pomeriggio se volete invece seguire l'esercizio di utilizzo dei dati OpenStreetMap scaricatevi il software QGIS da questo link basta cercare in qualsiasi motore di ricerca QGIS il link lo trovate facilmente questo è importante perché richiede un attimo di tempo quindi non si fa in 5 minuti come invece si crea un account quindi nel caso vogliate iniziare fatelo subito quindi inizio con la prima sessione di introduzione a OpenStreetMap allora come credo tutti sappiate OpenStreetMap è un progetto di VGI come dicevo prima quindi informazione geografica volontaria volunteer geographic information ed è il più noto più famoso quest'oggi come è nato è nato grazie a un ragazzo che si chiama Steve Coast o meglio nel 2004 era un ragazzo se vogliamo era uno studente di laurea specialistica e aveva questo problema doveva fare la sua tesi di laurea e gli servivano dei dati in particolare dei dati di strade è andato a richiederli all'agenzia di mapping del Regno Unito che è lo UK Ordnance Survey ma quello che ha scoperto è che i dati non erano disponibili o meglio erano disponibili ma non erano utilizzabili per farci qualsiasi cosa quindi erano disponibili ma non sotto una licenza sufficientemente libera allora ha detto intanto ho girato la slide per farvi capire dove stiamo arrivando allora ha avuto un'idea un'idea in realtà abbastanza semplice ha detto va bene se non posso usare i dati ufficiali perché non creo io o non penso io a come poter creare una fonte di dati un database che sia parallelo che sia diverso indipendente da quello ufficiale quindi un database creato da me dalle persone l'idea era abbastanza semplice se vogliamo cioè se io che conosco una certa zona la zona dove vivo dove lavoro dove mi piace andare nel tempo libero se io creo la mappa di questa zona e se tutti creano la mappa della loro zona della zona o delle zone che conoscono bene ecco o comunque soprattutto a costo zero ecco che possiamo creare il database del mondo la mappa del mondo in realtà diciamo l'ambizione non era così grande all'inizio l'ambizione era quella di costruire un database di e il progetto è nato dove Steve Coast si trovava quindi nel Regno Unito a Londra in particolare ecco che nel corso degli anni appunto il progetto ha acquisito un'importanza crescente così crescente che oggi è un progetto mondiale quindi non più Regno Unito ma tutto il mondo e non più solo strade ma come vedete anche nella grafica qualsiasi oggetto che ha una posizione quella che vedete è il JRC il posto dove lavoro quindi vedete sostanzialmente quello che è OpenStreetMap non è la mappa che vedete al sito OpenStreetMap.org quindi l'immagine della mappa in realtà OpenStreetMap è il database fatto come vedremo da punti, linee, poligoni che sta sotto a questa mappa viene anche chiamato la Wikipedia delle mappe perché la logica è proprio quella di Wikipedia si parla anche di crowdsourcing OpenStreetMap è un progetto di crowdsourcing se vogliamo crowdsourcing vuol dire qualcosa di più generale in realtà vuol dire prendere un task che nessuna persona nessuna organizzazione riuscirebbe a fare da sola e praticamente fare l'outsourcing a qualcuno in questo caso chi l'outsourcing ha il crowd crowd vuol dire praticamente a tutti quindi OpenStreetMap è un progetto di crowdsourcing perché il task di creare la mappa il database del mondo è praticamente aperto a tutti quindi da questo punto di vista è un pochino la Wikipedia delle mappe perché il funzionamento è lo stesso come vedremo come capiremo anche quest'oggi non è un'alternativa a Google Maps per tanti motivi il principale è questo OpenStreetMap è un database di dati e noi come vedremo possiamo accedere al database possiamo accedere ai dati perché la licenza lo consente e possiamo usarli Google Maps non vi consente di accedere a niente non vi consente di accedere al database quindi ai dati che stanno sotto alle mappe Google vi presenta la mappa delle strade la mappa del terreno la mappa satellitare vi dà tanti servizi che sono servizi utilissimi che penso tutti abbiamo usato almeno una volta ma non è in quanto tale paragonabile OpenStreetMap alcuni servizi che offre Google come il routing Street View eccetera sono paragonabili alcuni servizi che sono stati costruiti da qualcuno sulla base dei dati OpenStreetMap quindi non c'è un meglio o un peggio ma c'è ci sono due progetti che hanno dei lati in comune ma sono progetti che nascono per scopi diversi e danno anche dei risultati diversi non dimentichiamo mai questa è l'ultima cosa che dico Google Maps è un progetto è un prodotto di un'azienda quindi Google decide che cosa mettere sulla sua mappa e che cosa non mettere e lo vedremo nel concreto tra pochissimo o in OpenStreetMap chiunque mette quello che vuole perché chiunque è libero di mappare quello che nel mondo esiste ovviamente con delle regole che vedremo perché OpenStreetMap appunto lo abbiamo sostanzialmente già detto per compensare la mancanza di dati geografici ufficiali oppure la presenza di dati ma o a pagamento oppure con licenze di utilizzo restrittive quindi che non consentono veramente chi lo utilizza di per esempio fare del business con i dati chiaramente ci sono stati una serie di fattori enablers come si dice in inglese quindi che hanno favorito la nascita e lo sviluppo del progetto perché siamo nel 2004 quindi siamo agli albori del web 2.0 il web partecipato il web in cui le persone possono creare contenuti quindi è l'epoca in cui nascono i blog nascono le wiki disponibilità di dispositivi GPS a basso costo e così è nato il progetto quindi se vi ricordate le strade le strade erano facilmente mappabili a partire dalle tracce GPS che i primi utenti andavano in giro a raccogliere e anche la disponibilità per la prima volta in quegli anni di immagini soluzioni che consentivano di tracciare degli elementi proprio al di sopra strade edifici quello che faremo un pochino noi nell'esercizio di oggi c'è un video molto carino che mostra i primi dieci anni di OpenStreetMap magari lo lascio a voi per come approfondimento è un video realizzato da TeleNav che è una delle aziende leader diciamo nell'utilizzo di dati OpenStreetMap che mostra un'immagine molto carina dei primi dieci anni di vita del progetto dicevamo spesso OpenStreetMap è l'unica sorgente di dati esistente quindi non soltanto la più completa veramente a volte l'unica quindi non c'è neanche un paragone con dati ufficiali qui siamo a Kibera Kibera è la più grande baraccopoli di Nairobi in Kenya ma è anche una delle più grandi dell'Africa intera ci sono stime diverse su quante persone veramente vivono all'interno diciamo stime ufficiali dicono 200.000 persone stime ufficiose dicono anche 1-2 milioni è un è un quartiere è una zona povera è una zona in cui c'è tanta c'è spesso epidemie perché l'acqua potabile è scarsa ci sono purtroppo casi di HIV criminalità molto alta povertà molto alta quindi diciamo si è reso necessario negli anni anche fortunatamente un progetto finanziato è partito che ha portato alla mappatura in OpenStreetMap della zona la zona la vedete da un'immagine satellitare in basso a destra questa è una mappa di Here a sinistra vedete due immagini diverse diciamo due stili diversi per rappresentare i dati di OpenStreetMap e qui potete capire benissimo quanto bene quest'area sia mappata quindi sono mappati non soltanto edifici ma anche quello che serve poi per gestire l'area quindi per esempio le farmacie i centri medici i luoghi di culto e così via mentre in alto a destra vedete quello che tipicamente un provider di mappe commerciali come in questo caso HereMaps ma se vedete se andate a vedere a cercare Google Maps nella stessa zona vedete che il risultato è identico una mappa vuota quindi una mappa in cui sostanzialmente le persone non ci sono quindi questo tema del portare del mettere le persone sulla mappa lo vedremo meglio dopo però potete già capire che insomma chi non è sulla mappa in un certo senso è un po' al di fuori di tutto quello che può essere i processi politici o decisionali quindi OpenStreetMap spesso veramente è l'unica cosa che c'è in termini sorgenti di dati vediamo un attimo l'approccio di OpenStreetMap lo abbiamo già detto la logica è ognuno mappa la zona che conosce quindi il progetto veramente è un progetto bottom up assolutamente opposto a quello top down in cui qualcuno impone dall'alto qui veramente chiunque può contribuire dati relativi alla zona che conosce e quindi il progetto per questo motivo è guidato da comunità comunità vuol dire comunità nazionali ma anche regionali ma anche locali e oggi pomeriggio cercheremo di darvi un po' di indizi su che cosa succede per esempio a livello italiano quindi che cosa fa la comunità italiana che cosa vuol dire che il progetto in Italia è guidato dalla comunità per esempio a livello globale invece il progetto è guidato coordinato ma non controllato dall'OpenStreetMap Foundation quindi l'OpenStreetMap Foundation è l'entità che è legalmente responsabile del progetto OpenStreetMap è l'entità che raccoglie i fondi del progetto che derivano per esempio da sponsorizzazioni o donazioni o quant'altro che decide come spendere i soldi tipicamente per gestire l'infrastruttura tecnica o per dare dei grant a determinate comunità nel mondo la cosa più importante è che la fondazione non controlla il progetto nel senso che cosa si mappa e come si mappa quindi non prende delle decisioni quando ci sono controversie fra le comunità o all'interno di una comunità su per esempio come si mappa un certo oggetto non decide la fondazione la fondazione coordina è fatta da tanti working group uno dei quali ad esempio quello che ho citato all'inizio quello che organizza il convegno annuale che si chiama State of the Map però al di là di finanziare il progetto mantenere l'infrastruttura tecnica quindi tutti i server e tutti i vari servizi collegati a OpenStreetMap la fondazione appunto non interviene e non controlla e questo è molto importante altro aspetto essenziale l'abbiamo già accennato è la licenza dei dati OpenStreetMap la licenza è naturalmente una licenza aperta in particolare la ODBL la Open Database License che in in pochissime parole consente diciamo chi utilizza i dati di OpenStreetMap di fare un po' quello che vuole cioè di condividere di riutilizzare ma anche di derivare dei dataset a partire dal database di OpenStreetMap quindi di fatto io posso prendere il database posso passarlo a chi voglio posso utilizzarlo per qualsiasi scopo posso condividerlo posso anche modificarlo a patto che alcune condizioni siano rispettate la più importante delle quali è l'attribuzione e qui in questa nuova slide vedete cosa si intende per attribuzione ogni qualvolta si utilizzano i dati di OpenStreet ma bisogna sempre riconoscere la paternità dei dati ai contributori del progetto se questo avviene su una mappa web come succede sul sito principale OpenStreetMap.org tipicamente vedete in basso a destra o comunque vedete da qualche parte un link vedete la stringa copyright OpenStreetMap contributors tipicamente OpenStreetMap deve essere un link che punta la pagina della licenza questo si applica qualsiasi sia l'utilizzo quindi se qualcuno stampa una mappa e quella mappa è una mappa di OpenStreetMap e appende dei volantini in giro per il quartiere ma manca la licenza allora è un problema e questa è una violazione della licenza e come tale va rispettata ok quanti sono i contributori di OpenStreetMap allora intanto bisogna dire chiunque può contribuire al progetto non ci sono dei requisiti minimi non bisogna essere laureati non bisogna essere degli esperti o dei programmatori o degli esperti di computer science chiunque può contribuire giusto per dare dei numeri oggi ci sono oltre 7 milioni di utenti registrati quindi che hanno creato un account per contribuire ma non necessariamente tutti quelli che l'hanno fatto hanno veramente contribuito oggi circa 1.6 milioni di contributori hanno almeno fatto un edit al progetto se invece andiamo a vedere i grafici quello di destra scopriamo che ci sono circa 50.000 contributori attivi al mese 50.000 diversi in tutto il mondo attivi ogni mese e circa 120 milioni di modifiche che vengono fatte al mese al progetto quindi si parla di numeri abbastanza ampi ok da questo momento in poi vi mostro qui una carrellata di link una carrellata di applicazioni che sono diciamo così fanno capire danno un'idea un pochino di come si possono usare i dati di cosa si può fare con i dati allora qui mi sto rendendo conto che ho dimenticato il link purtroppo questa è un'applicazione magari Alessandro può mettere il link nella chat è sicuramente utile è un'applicazione diciamo molto carina non fa altro che visualizzare in tempo quasi reale tutti i change set cioè tutte le volte che un utente fa delle modifiche al progetto quindi questa che vedete qua in maniera statica è in realtà una mappa animata in cui questi pallini rossi appaiono e scompaiono in tutto il mondo e sulla destra scorrono in colonna appunto i change set quindi l'utente e il commento al change set sono termini che approfondiremo successivamente durante il workshop però diciamo questa è una visualizzazione simpatica un'altra invece altrettanto simpatica è questa che provo a mostrarvi in tempo reale si chiama show me the way se la connessione mi assiste dovreste vedere tra poco comparire qualcosa questo è Londra innanzitutto giusto per riconoscere per ricordare che il progetto è nato a Londra vediamo se succede qualcosa ecco qua quello che vedete sono praticamente delle modifiche ripeto in tempo quasi reale al database di OpenStream quindi qui sotto in questo banner nero vedete l'utente quindi il nome dell'utente che ha fatto la modifica che cosa ha modificato in questo caso vedete un edificio in questo caso una fermata probabilmente un bancomat in questo caso una strada eccetera eccetera poi vedete qui sotto il commento alla modifica a questo change set di cui parlavo prima e infine anche l'editor che è stato utilizzato per fare questa modifica in questo caso id in altri casi avete visto prima josm sono tutti termini che impareremo a conoscere durante il pomeriggio e questo scorre in tempo reale quindi lui prende delle modifiche fatte in tempo reale o quasi reale e ve le fa vedere e continua così sostanzialmente all'infinito diciamo ok allora dove si contribuisce di più OpenStreetMap? ovviamente il fatto che chiunque possa contribuire non vuol dire che chiunque lo faccia veramente o lo faccia nello stesso modo questo è un servizio uno dei tanti creati da Pascal Neis che è una sorta di illuminare in OpenStreetMap chiunque conosca il progetto OpenStreetMap conosce i tool di Pascal Neis ne vedremo un po' oggi pomeriggio c'è il link non ve lo apro perché vi porta una pagina diciamo con un sacco di grafici questo è quello principale vi fa vedere che effettivamente se si va a vedere quanti contributi vengono fatti in ogni paese del mondo ci sono comunità ovviamente più e meno attive allora qui vedete la mappa che è colorata a seconda del numero di contributi giornalieri quindi ogni giorno questa mappa in realtà è diversa io ho fatto uno screenshot tre giorni fa o meglio due giorni fa per vedere la mappa di tre giorni fa perché vedete sempre quella del giorno prima però dà un'idea abbastanza chiara i numeri sono chiaramente stabili quindi si può capire che in generale i paesi più grandi hanno più contributori vedete gli Stati Uniti però in realtà ci sono anche dei paesi lo si vede subito in Europa soprattutto la Germania e un po' meno la Francia che hanno comunità di OpenStreetMap particolarmente attive perché? per tradizione perché OpenStreetMap si è radicato di più anche come filosofia perché i dati ufficiali sono appunto meno aperti o più difficili o sono più economicamente più costosi insomma per vari motivi però ci sono comunità particolarmente forti radicate quella tedesca è sicuramente l'esempio più importante diciamo al mondo e tra poco arriviamo naturalmente all'Italia vedete che in termini di numero di contributi al giorno numero di scusate contributori al giorno l'Italia è l'undicesimo posto che non è assolutamente male ovviamente considerando che ci sono paesi ben più grandi qui invece la mappa è colorata in base alla diciamo così alla densità di contributori cioè la frazione numero di contributori diviso la popolazione totale chiaramente questo dà un'idea di come gli Stati Uniti non siano più così significativi ma i paesi europei poi vedete a destra alla Mongolia interessante come esempio però insomma ci sono tantissimi contributori in base attivi contributori attivi in questa giornata in base alla popolazione totale ok due parole anche sulla comunità italiana di OpenStreetMap e su Wikimedia Italia Wikimedia Italia che è prima di tutto il capitolo locale della Wikimedia Foundation che è la fondazione che si occupa di Wikipedia Wikimedia Italia del 2016 è anche il capitolo locale della OpenStreetMap Foundation quindi anche il capitolo locale che si occupa di OpenStreetMap in Italia in maniera più o meno simile a quello che fa la OpenStreetMap Foundation non decide non comanda non controlla quello che succede in Italia ma coordina la comunità italiana di mappatori e di utenti quindi ci sono anche delle persone che hanno ruoli specifici abbiamo un responsabile OpenStreetMap per Wikimedia Italia abbiamo un coordinatore nazionale per Wikimedia per OpenStreet ma per Wikimedia Italia che è Alessandro Sarretta che abbiamo la fortuna di avere come correlatore quest'oggi e poi abbiamo coordinatori regionali uno per ogni regione non per tutte le regioni esistono ma ci sono anche delle figure che diciamo tengono unita e animano la comunità regionale per esempio per la Lombardia per me che sono lombardo esiste un coordinatore di Wikimedia Italia e poi naturalmente Wikimedia Italia si occupa di organizzare degli eventi dei ritrovi insomma conferenze il convegno FosforG IT quindi l'appuntamento annuale della comunità italiana del software geografico libero è anche coorganizzato da Wikimedia Italia tipicamente abbiamo una sessione su OpenStreetMap ma anche eventi più locali di mappatura mappi in parti per esempio quindi i mappatori si ritrovano discutono oppure mappano ovviamente Wikimedia un pochino come l'OpenStreetMap Foundation finanzia lo sviluppo di software e di servizi per la comunità italiana ne vedremo due quest'oggi il Tasking Manager che tra l'altro lo useremo più tardi come strumento per mappare quindi non vi anticipo nulla e poi anche gli estratti italiani di cui parlerà Alessandro quindi poi mantiene naturalmente l'infrastruttura tecnologica chiaramente tutto sta in piedi se ci sono server se ci sono risorse anche diciamo così infrastrutturali perfetto l'ultima parte diciamo di questa introduzione è legata al fatto su cui insisto che OpenStreetMap è un database geografico quindi non è la mappa non è l'immagine che vediamo al sito OpenStreetMap.org ma è un database è quello che sta sotto alla mappa e infatti a partire da questo database potete avere visualizzare o addirittura creare voi stessi tante mappe diverse queste sono quattro delle sei mappe che sono disponibili alla pagina principale del progetto ve le faccio magari vedere in diretta dal sito del progetto voi aprite OpenStreetMap.org a destra avete sostanzialmente dal menu livelli avete la possibilità di modificare magari aumento un pochettino la piazza della zona per farvela vedere però avete la possibilità di modificare la visualizzazione questa è la visualizzazione standard a cui tutti siamo forse più abituati ma esiste anche una visualizzazione o meglio due dedicate alle piste ciclabili o comunque ai percorsi e alle relative infrastrutture vedete per esempio i negozi di biciclette una mappa dei trasporti una seconda mappa dei trasporti e una visualizzazione umanitaria quindi cosa cambia? Cambia il fatto che a seconda del tipo di visualizzazione alcuni elementi sono visualizzati altri elementi invece non sono visualizzati quindi c'è una priorità data in questo caso per esempio umanitario a land use ospedali servizi fiumi corsi d'acqua infrastrutture eccetera allora mi accorgo che ho la batteria praticamente scarica vi chiedo di scusarmi un attimo vado a recuperare il caricabatterie magari Alessandro intanto se ci sono domande nella chat ti posso chiedere se puoi prendere in mano la conversazione per un minuto io arrivo subito grazie scusate sì perfetto sì ne approfitto visto che è arrivata anche una domanda riguardo alle licenze c'è una domanda che chiede come mai OpenStreetMap non ha una licenza Creative Commons le Creative Commons soprattutto la CCBI è una delle più utilizzate per quanto riguarda la condivisione di dati o di documenti anche da parte delle amministrazioni in effetti la ODBL è una licenza specifica per i database quindi ha delle specificità che aiutano a tutelare diciamo o a garantire certe libertà ai database in realtà mi sembra non sono il più esperto su questo campo che comunque al tempo della scelta la versione della Creative Commons a suo tempo aveva delle mancanze che poi sono state corrette sulla copertura di diritti sui generis per esempio sui database per quanto riguarda la legislazione europea quindi è stata una scelta anche che forse dipendeva dal tipo di maturità della licenza Creative Commons per quanto riguarda i database equivale più che a una CC BY a una CC BY SA nel senso che il BY significa che si richiede attribuzione quindi si richiede che quando uno usa il dato o la mappa il dato perché l'ODBL sui dati deve citare l'origine del dato quindi il fatto che viene dopo il street map in più è richiesto che il dato venga rilasciato con la stessa licenza non si può cambiare o diminuire l'apertura quindi è corrispondente della share alike SA della licenza CC BY SA quindi corrisponde di più a quella prego Marco abbiamo preso un po' di tempo grazie Ale sì grazie mille ho recuperato il caricabatterie e approfitto per ringraziare Alessandro anche per la pregiudazione sulla licenza sì ho dimenticato che l'ODBL effettivamente richiede anche di rilasciare con la stessa licenza qui invece approfitto per farvi vedere quello che vi raccontavo prima questo link in basso tipicamente appunto lo vedete in tutte le mappe che usano OpenStreet mappi il link che se cliccato poi porta alla pagina della licenza e aggiungo se stai qua un attimo sulla pagina Marco che le tile quindi anche le mappe sono in CC BY SA quindi ci sono una molteplicità di licenze a seconda anche del tipo di output del prodotto che deriva dal database il database stesso è invece con quella licenza diversa grazie Alessandro va bene allora torniamo alle slide qui ho una carrellata di visualizzazioni differenti possibili e immaginabili sempre a partire dai dati di OpenStream questo è per darvi un'idea veramente di che cosa si può fare poi con i dati quindi qui vedete una visualizzazione per hike and bike che abbina diciamo alla visualizzazione standard dei dati anche un'ombreggiatura che deriva presumibilmente da un modello digitale del terreno esterno a OpenStreetMap qui invece ne vedete un'altra che è una delle mie preferite che sia per il tema che è naturalmente lo sci sia perché vi fa capire veramente il livello di dettaglio dei dati OpenStreetMap abbiamo detto è il database più grande al mondo perché è globale ma è anche il database veramente più dettagliato al mondo quindi trovate perfino comprensori sciistici comprensori sciistici che comprendono impianti di risalita comprendono le vere e proprie piste da sci eccetera eccetera quindi chiaramente questa è una visualizzazione ad hoc dei dati quindi qualcuno ha creato delle regole per cui per esempio vengono rappresentati anche il colore delle piste quindi che sappiamo essere in base alla difficoltà eccetera eccetera quindi potete divertirvi questo si chiama OpenSnowMap e penso tutti o quasi tutti i comprensori sciistici del mondo sono visualizzati questa invece è una visualizzazione ad acquerelli penso che probabilmente l'abbiate vista perché è una delle più famose viene fatta da questa azienda statunitense che si chiama Stamen che è un'azienda di design che offre e vende prodotti basati su OpenStreetMap sempre Stamen fa questa visualizzazione toner in bianco nero qui vedete siamo a Roma naturalmente qui vedete un'altra visualizzazione particolarmente interessante è quella che praticamente vi fa vedere tramite la mappa ma anche interrogando poi la mappa quali tipi di birre vendono i bar o i pub quindi qui siamo in Belgio credo dove tipicamente la comunità mappa anche queste cose quindi chiaramente non ci sarebbe questa visualizzazione se non ci fossero i tag quindi se nessuno mappasse quello di cui stiamo parlando qui addirittura hanno mappato il tipo di birra o i tipi di birra che vengono serviti dai diversi pub dalle birrerie tra cui insomma volete siete interessati a sapere dove vendono la Guinness lo potete trovare da qui OpenBearMap questa è un'altra visualizzazione in modalità mappa dei pirati se volete per esempio come sfondo di una vostra applicazione web utilizzare qualcosa di simile questo invece mi soffermo un attimo perché è molto interessante qui stiamo parlando di una cosa di se vogliamo un po' diverso un po' nuovo anche e della visualizzazione indoor quindi OpenStreetMap ha anche un modello dati indoor che serve appunto a rappresentare in maniera corretta oggetti che si trovano appunto indoor quindi all'interno e questo è un visualizzatore che mostra che mostra sostanzialmente per ogni diciamo piano di un edificio vi mostra quello che effettivamente c'è a livello di ingressi scale ascensori scale mobili e quant'altro questo ovviamente è un visualizzatore quindi prende sempre il database di OpenStreetMap che vi consente con questa barra laterale in cui scegliete il piano vedete qui scegliete praticamente 0-1 o quello che volete e il visualizzatore cambia e vedete naturalmente quello che c'è che è stato mappato corrispondente a un piano piuttosto che a un altro questo ovviamente è possibile perché c'è un determinato attributo che dice qual è il piano a cui un oggetto appartiene questa è un'altra visualizzazione particolarmente carina magari vediamo se riesco a farvela vedere è un'azienda che la produce è una visualizzazione basata su WebGL che sostanzialmente vi mostra i dati di OpenStreetMap in tre dimensioni allora provo ad andare a Milano e se facciamo lo zoom a un certo punto compare il 3D il 3D come fanno a generarlo lo fanno proprio a partire dai dati di OpenStreetMap in particolare gli edifici sono tridimensionali e l'informazione che viene sfruttata è proprio l'altezza degli edifici o il numero di piani degli edifici che sono cose che si possono inserire in OpenStreetMap fontane quindi specchi d'acqua alberi sono anch'essi le strade naturalmente in OpenStreet ma poi ci sono anche dei modelli 3D come questo del Castello Sforzesco che sono esterni a OpenStreetMap quindi proprio gli hanno giunti loro interessante se volete giocare un po' anche il fatto che si possano simulare condizioni diciamo diverse da quelle attuali questa è la situazione live in termini di meteo e in termini di ora del giorno ma potete per esempio simulare di essere alla mattina alla sera gli date del sole gli date della pioggia o della neve e così via però diciamo qui c'entra poco OpenStreetMap c'entra insomma tutto quello che poi si può fare con i dati di OpenStreetMap torniamo a noi e chiudo la prima parte con una slide dove cominciamo a farvi capire chi usa OpenStreetMap cioè avete soprattutto per chi non lo conosceva non lo conosce avete intuito insomma le potenzialità del dataset chi lo usa basta leggere forse la prima riga in alto per rendervi conto che insomma OpenStreetMap lo usano un pochino tutti soprattutto lo usano soprattutto i giganti oggi del web le cosiddette big tech o quasi tutte insomma perché abbiamo Microsoft abbiamo Apple abbiamo Facebook abbiamo Amazon abbiamo Mapbox si possono fare tanti esempi insomma sono aziende per esempio Facebook allora Apple pochi forse lo sanno le mappe di Apple sono anche fatte con i dati di OpenStreetMap a seconda delle zone usano anche dati di OpenStreetMap Facebook mantiene una propria versione del database di OpenStreetMap ovviamente le mappe di Facebook sono utilizzate in Facebook in Instagram e in tutte le altre applicazioni Facebook anche e questa è la cosa importante queste aziende non soltanto usano i dati ma contribuiscono anche al progetto principalmente mappando quindi Facebook ha dei team di mappatori dedicati proprio che sono pagati per aggiungere dati Facebook ha creato anche degli strumenti per esempio RapidID è un editor creato da Facebook che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per diciamo suggerire dove per esempio a partire da immagini satellitari dove sono le strade ad esempio Amazon stessa cosa ovviamente per Amazon è fondamentale per le consegne avere una rete stradale che sia migliore possibile quindi anche Amazon utilizza e contribuisce dati OpenStreetMap dicevo contribuiscono a mappando ma contribuiscono anche sponsorizzando tipicamente o sponsorizzando proprio la fondazione di OpenStreetMap ci sono i cosiddetti corporate members per esempio Bing è uno di questi oppure sponsorizzando anche i conveni di OpenStreetMap Mapbox è una delle aziende forse più famose a livello mondiale per lo sviluppo di servizi di mappa basati su dati OpenStreetMap chi di voi usa Strava chi va a correre o va in bici utilizza mappe OpenStreetMap che sono servite da Mapbox Grab per chi è stato in vacanza nel sud-est asiatico lo conosce sicuramente perché Grab è praticamente l'Uber dell'Asia è un'azienda di Singapore ma è diffusa in tutto il sud-est asiatico fa consegne a domicilio logistica trasporto appunto consegne anche dei pasti e così via quindi per loro avere una rete stradale ben mappata è fondamentale infatti anche loro contribuiscono in questo senso quindi OpenStreetMap è veramente ovunque vi faccio l'ultimo esempio che è un aneddoto curioso è quello di Tesla si è scoperto diciamo in maniera forse diversa da quello che accade per le altre grandi aziende che anche Tesla utilizza dati di OpenStreetMap perché Tesla stessa ha reso pubblico il fatto che per diciamo facilitare il funzionamento degli algoritmi di guida automatica di guida autonoma delle automobili si utilizzavano i dati delle corsie dei parcheggi in OpenStreetMap da quando Tesla ha fatto un post sul suo blog che diceva questa cosa ecco che improvvisamente una serie di persone affezionate a Tesla hanno cominciato a mappare tantissime corsie dei parcheggi soprattutto negli Stati Uniti c'è stato proprio un caso curioso di un picco di mappatura di corsie dei parcheggi proprio perché si è scoperto che Tesla stessa ha rivelato che questi oggetti venivano proprio utilizzati dagli algoritmi con questo si chiude la prima parte e direi di procedere alla seconda siamo quasi nei tempi quindi vado diretto con il modello dati di OpenStreetMap dicevo questo è fondamentale per capire un pochino poi come aggiungere dati e come utilizzare i dati di OpenStreetMap non lasciatevi ingannare dal modello concettuale che vedete perché il modello dati di OpenStreetMap è abbastanza molto direi semplice molto semplice e in particolare ci sono come vedete quattro data type quindi quattro diversi tipi di struttura quattro diversi tipi di dati per così dire ogni oggetto ha sempre due data type quindi ogni oggetto è sempre la combinazione di una geometria e uno o più tag quindi parliamo di geometria ogni oggetto ha sempre un data type che è o nodo o way o relazione e questo data type descrive la geometria il quarto data type descrive invece gli attributi della geometria che in OpenStreetMap si chiamano tag adesso possiamo dimenticare la figura e possiamo concentrarci su che cosa si intende per nodi way e relazioni quindi cominciamo dalla geometria allora un nodo è come dice la parola stessa un singolo punto identificato da una coppia di coordinate queste piccole immagini sono quelle che ritroveremo tra poco diciamo nelle pagine nella documentazione ufficiale di OpenStreetMap quindi un nodo tipicamente si utilizza per mappare oggetti puntuali un indirizzo un albero un lampione un cancello una panchina eccetera una way invece è una lista ordinata di nodi in realtà non di qualsiasi numero di nodi ma di nodi da due nodi a 2000 nodi questo per un limite dell'API di OpenStreet ma è stato fatto così il modello dati la cosa importante è che le liste di nodi possono essere o delle linee quindi una strada un fiume un muro una siepe oppure anche dei poligoni sostanzialmente quindi diciamo delle linee chiuse per così dire quindi degli oggetti areali un edificio un lago un poligono di uso del suolo e così via ok quindi entrambe le cose si chiamano way infine abbiamo un terzo data type che si chiama relazione una relazione che cos'è è o una lista ordinata di tanti nodi più di 2000 nodi e vediamo questo primo esempio questo primo esempio capita per esempio per poligoni di land use supponete una foresta particolarmente grande questa è una relazione perché ha più di 2000 nodi oppure pensate al poligono di un lago un lago diciamo grande come il lago di Como il lago maggiore insomma questo ha chiaramente più di 2000 nodi più di 2000 vertici del poligono oppure una lista ordinata di due o più nodi o e o way e o altre relazioni quindi veramente un qualcosa che mette in relazione altri elementi esempio esempio classico è una linea di trasporto per esempio se devo mappare una linea del bus la linea del bus sarà fatta da che cosa? sarà fatta da tanti piccoli pezzettini di strade che corrispondono al percorso del bus ma anche dai nodi delle fermate del bus quindi io mappo una relazione metto in relazione le fermate dei bus con tutti i pezzettini di strada che compongono il percorso dei bus un altro esempio di utilizzo delle relazioni invece sono i multipoligoni che si utilizzano per mappare edifici a ciambella quindi edifici con un buco dentro con un cortile per esempio in questo caso si utilizza una relazione di tipo multipoligono in cui si deve mappare la parte esterna dell'edificio e poi la parte interna con due si chiamano ruoli all'interno delle relazioni che fanno un multipoligono non ci occuperemo di mappare relazioni quest'oggi non sono chiaramente le cose più semplici però diciamo il concetto in sé è credo abbastanza semplice questo è un esempio di geometrie quindi ho due fermate del bus che sono due nodi quindi due punti ho una strada quindi in verde ho una way intesa come linea e ho un edificio quindi una way intesa come area come poligono e poi come dicevo il percorso del bus può essere una relazione che mette insieme la strada e mette insieme le due fermate del bus oltre alla geometria dicevo c'è una seconda parte ovviamente perché una geometria senza un contenuto semantico è solo una geometria il contenuto semantico è dato dagli attributi che in OpenStreetMark si chiamano tag e ogni tag ha due parti una chiave e un valore la chiave è naturalmente la proprietà il campo il valore è il valore appunto che quel campo assume per ogni specifico oggetto ma ovviamente vedremo tantissimi esempi più tardi due parole sui tag prima di entrare un po' nella pratica e vedere un po' di documentazione il tagging è flessibile nel senso che ogni oggetto deve avere almeno un tag ovviamente altrimenti ha solo una geometria senza significato ma non c'è in principio un limite al numero di tag che un oggetto può avere quindi non c'è un modello concettuale rigido che dice se vuoi mappare non lo so un'autostrada devi utilizzare almeno tutti e soli questi cinque tag in realtà no basta uno che identifichi l'oggetto in maniera univoca poi però si possono aggiungere altri tag quanti in principio infiniti poi ovviamente il numero non è infinito però non c'è un limite esiste un elenco dei tag ovviamente che si possono usare ed è un elenco che la comunità mondiale di OpenStreetMap ha aggiornato ha creato ha costruito nel corso degli anni ed è una pagina wiki il fatto che sia una pagina wiki deve subito farci pensare che è una lista dinamica in un certo senso perché cambia continuamente ci sono continuamente discussioni per aggiungere nuovi tag per per abbandonare dei tag che non sono particolarmente usati o non sono particolarmente esatti vanno sostituiti quindi è una pagina che evolve in continuazione e viene proprio creata e mantenuta dalla comunità ogni tag deve essere verificabile questo è un principio molto importante la verificabilità dei dati di OpenStreetMap significa che due o più utenti se osservano nella realtà lo stesso oggetto devono poter poterlo mappare con esattamente la stessa geometria ma soprattutto la stessa chiave lo stesso valore vi faccio un esempio in OpenStreetMap non si mappano per esempio osservazioni che sono spazio-temporali quindi non misuro la temperatura in un certo punto non va in OpenStreetMap quel dato perché? perché se un'altra persona andasse nello stesso posto magari con un altro strumento magari con il mio stesso strumento ma in un'altra ora del giorno in un altro giorno probabilmente avrebbe una misura diversa quindi tutti questi dati che variano nel tempo non vanno in OpenStreetMap di conseguenza anche dati raster non vanno in OpenStreetMap quindi una mappa delle temperature un modello digitale del terreno non va in OpenStreetMap in OpenStreetMap ci sono ad esempio i picchi delle montagne quindi le cime delle montagne sì perché quelli sono valori che sono verificabili effettivamente quindi la quota di quel punto è verificabile non è verificabile il modello digitale del terreno questo è ovviamente un approccio molto importante che ancora una volta ancora quello che c'è in OpenStreetMap a quello che c'è nel mondo reale vediamo nella pratica allora questa pagina wiki che vi ho menzionato questa pagina wiki è una sorta di bibbia diciamo del mappatore OpenStreetMap cioè senza questa pagina non è possibile conoscere il progetto non è possibile proprio mappare allora speriamo che la connessione mi assista perché non la vedo eccola qua è una pagina abbastanza ampia insomma contiene praticamente tutto quello che sono i tag di OpenStreet ma allora vedete che c'è un po' di spiegazione poi c'è un lungo elenco di feature ok prendiamo un esempio prendiamo la struttura la sezione di building quindi che dice come si mappano gli edifici qui c'è un po' di descrizione che dice praticamente che la chiave è building ok ovviamente tutti i tag sono espressi in inglese quindi non esistono versioni italiane dei tag altrimenti non ci sarebbe un database globale ci sarebbero tanti database nazionali quindi la chiave è sempre building il valore della chiave definisce il tipo di edificio che vogliamo mappare come vedete qui ci sono quei simbolini di cui vi parlavo prima trattandosi di building è sempre è comunque un poligono però vedete il valore della chiave building dipende dipende da che cosa vogliamo mappare quindi abbiamo degli appartamenti quindi un poligono che rappresenta nel mondo reale degli appartamenti dobbiamo usare il tag building apartments e se noi clicchiamo su apartments abbiamo anche una pagina separata che dice ci dà tutti i dettagli di quando quello specifico tag va usato con tanto di esempi anche visivi che aiutano moltissimo in realtà i mappatori questo praticamente è quanto nel senso che a seconda di cosa avete bisogno di mappare c'è un tag specifico nel caso degli edifici ve lo anticipo perché lo vedremo dopo nella parte più pratica nel caso in cui non si sappia la tipologia la destinazione d'uso dell'edificio vedete quanti sono intanto si utilizza un tag generico che è building uguale yes building uguale yes è il valore usato quando non si conosce la natura dell'edificio quindi quando mapperemo tra poco gli edifici dalle immagini satellitari utilizzeremo il tag generico building uguale yes però avete avuto modo di vedere quanti tag quanti valori diversi la chiave building può assumere ovviamente ho preso la chiave building come esempio ma qui trovate praticamente tutti gli oggetti possibili immaginabili magari ve ne faccio vedere un altro giusto per darvi un'idea land use quello di cui ho parlato prima anche qui avete diversi utilizzi di usi del suolo quindi commerciale costruzione industriale residenziale eccetera eccetera e qui vedete anche in questa colonna rendering vedete come gli oggetti i poligoni in questo caso mappati con questa chiave questo valore sono renderizzati dove nel viewer di open street quindi questo per intenderci ok quindi vedete questo rendering dovrebbe corrispondere a una foresta se ricordo bene vediamo se la trovo eccola qua e siamo qui ok e qui avete sempre un'immagine di riferimento quindi diciamo questa pagina chiaramente non bisogna imparare la memoria ma bisogna sempre ricordare che c'è questa pagina quando si ha un dubbio su come mappare qui è spiegato e qui è sempre troviamo sempre la situazione più aggiornata dei tag di open street map esistono anche delle pagine e dei servizi come tag info che è un servizio fantastico che permette di capire qualcosa di più dell'utilizzo dei vari tag se apriamo tag info abbiamo una pagina di questo tipo che ci consente di fare delle ricerche io per esempio faccio una ricerca sull'end use sulla chiave l'end use per capire appunto tag info dà delle info sui tag quindi ho cercato una chiave che è l'end use e ho trovato che questa chiave è utilizzata circa lo vedete 32 milioni di volte in open street map 30 milioni delle quali sono per way quindi tipicamente poligoni di l'end use qualcuno è usato come nodo se torniamo indietro non lo faccio per non perdere tempo ma vedete che il nodo è anche consentito tipicamente per mappare un l'end use anche se naturalmente non è consigliato è consentito se per esempio non si ha tempo di mappare il poligono quindi a quel punto è consentito lasciare un nodo che qualcun altro convertirà in poligono qualche volta appunto l'end use è usato come relazione parlavamo prima dei grandi grandissimi poligoni di l'end use queste sono relazioni queste percentuali vogliono dire questo allora relazione vedete un milione e mezzo circa di oggetti che corrispondono al 17.21% di tutte le relazioni in OpenStreetMap stessa cosa per gli altri vediamo un attimo i valori questa è la cosa importante quindi qual è il l'end use più diffuso in OpenStreetMap è quello residenziale 21% poi segue l'uso agricolo foresta eccetera quindi vi dà delle statistiche interessante anche la combinazione delle chiavi quindi la chiave l'end use il 20% delle volte è combinata con la chiave source che può sembrare strano la chiave source è una chiave che serve per determinare la sorgente dell'informazione può sembrare strano ma è spiegabile con il fatto che tanti oggetti di uso del suolo derivano da un import concetto che vedremo più avanti nel pomeriggio ma un import vuol dire che è stato importato in OpenStreetMap un altro dataset e tipicamente quando c'è un import deve sempre obbligatoriamente esserci la chiave source che dice qual è la banca dati o database quindi qual è la sorgente di origine dei dati cronologia ci dà una curva che ci fa capire come la diciamo la la presenza del tag è aumentata nel tempo dal 2008 al 2021 interessante anche la mappa se vogliamo che dice dove il tag è usato nel mondo qui in realtà il tag è usato ovunque ma se proviamo a mettere un tag usato solo in Italia che è restaurant type it questo è un tag che ha creato proprio la comunità italiana per definire un qualcosa in più di quello che diciamo è possibile fare con il tag restaurant il tag restaurant dice la tipologia di ristorante restaurant type it è un tag introdotto dalla comunità italiana per definire in italiano lo vediamo qua il tipo di ristorante quindi i valori per esempio sono ristorante punte virgola pizzeria i nostri classici ristorante pizzeria pizzeria ristorante trattoria osteria enoteca eccetera e se andiamo sulla mappa questo è ovviamente usato solo in Italia quindi questo è tag info tag info anche molto utile quando dovete mappare qualcosa non siete particolarmente sicuri del tag giusto da usare perché magari la wiki non è chiarissima non è così completa o perché è usato così poco che magari siete in dubbio fra due tag allora magari venite su tag info provate a cercare il tag di cui siete in dubbio e vedete magari siete in dubbio fra due tag cercate quanto ciascuno di essi è usato e scegliete quello che ovviamente è più usato tanti tag magari non sono documentati bene sono tag tra virgolette sperimentali alcuni tag invece sono sconsigliati perché magari sono stati sostituiti da altri più comuni quindi potete capire però anche un problema dietro tutto quello che sto dicendo che talvolta persone diverse possono utilizzare anche tag diversi per gli stessi oggetti cosa che non dovrebbe succedere però il mondo reale è complesso quindi tante volte è difficile trovare il tag giusto interpretazioni di persone diverse sullo stesso oggetto possono essere diverse e quindi in effetti ci può essere inconsistenza e questo è uno dei problemi se vogliamo del database ma di qualità parleremo più tardi nel pomeriggio ovviamente ecco sui tag ci sono discussioni continue e a volte anche accese sulle mailing list non so quanti di voi siano già nella mailing list italiana consiglio a tutti quelli che sono interessati di entrarci anche solo per leggere il tipo di discussioni ogni tanto si discute su come un qualcosa si deve mappare o si deve correggere ecco quindi i tag sono spesso oggetto di discussioni per chiudere questa prima parte torniamo alle immagini di prima ma aggiungiamo alle geometrie i nostri tag quindi se ricordate la fermata del bus si mappa come highway uguale bus stop l'edificio si mappa come building uguale yes supponiamo di non conoscere la natura la destinazione d'uso dell'edificio la strada in questo caso vedete due tag il primo che dice il tipo di strada ed è quello obbligatorio cioè quello che identifica il fatto che questa è una strada il secondo è il nome della strada qui questo vi dice come vi fa capire come in realtà si possono aggiungere tantissimi altri tag a una strada potrei aggiungere ad esempio l'informazione sulla larghezza della strada o sul numero di corsie della strada o sul limite di velocità in quella strada o sul fatto che quella strada sia o meno illuminata nelle ore notturne quindi tantissimi tag posso aggiungere ovviamente all'edificio posso aggiungere il numero di piani dell'edificio posso aggiungere il nome se quell'edificio ha un nome e così via a destra invece vedete la relazione quindi mette insieme come dicevo le fermate dei bus più il percorso del bus quindi prende degli oggetti che esistono anche per conto loro li mette insieme e c'è una relazione una relazione ha sempre un tipo in questo caso il tipo è root che è quella che si usa appunto per tutti i trasporti root uguale bus ci dice di che trasporto stiamo parlando e poi la relazione ha altri tag può avere i suoi tag per esempio il nome B56 supponendo che sia appunto il nome del bus con questo la seconda parte è anche conclusa quindi passo senza esitare la parola ad Alessandro e se ci sono domande immagino che nel frattempo ce ne siano state le raccogliamo e le affrontiamo dopo oppure nella chat grazie grazie Marco puntualissimo hai spaccato quasi il secondo sulla tabella di marcia allora prova a condividere io Ale posso intervenire un secondo? prego prego assolutamente scusami c'è una domanda in chat direi che potrebbe essere il momento magari se sei d'accordo per farla un attimo per affrontarla perché era regata alla parte che aveva svolto Marco adesso prego Paolo scusami la domanda è questa Daria chiede avendo già un account per la modifica ne ha caricata una pochi minuti fa essendomi accorta che il nome della via dove abito era errata la domanda è quanto impiega una modifica diventare operativa e quindi visualizzata? rispondo allora volo io e dopo possiamo guardare che modifica ha fatto se ce lo dice allora la modifica è immediata nel database una volta che si salva la modifica il database immediatamente la contiene diciamo è praticamente immediata la visualizzazione dipende se vogliamo anche dal carico in quel momento del database però a livelli di visualizzazione elevata di zoom elevato bastano pochi minuti facendo il refresh della pagina o cancellando la cache dal browser se per caso non cambia dopo un po' e via via viene ricaricata alle scale successive ma comunque in tempi che vanno dai minuti alle ore con le performance attuali perfetto difatti difatti lei diceva in real time è stata visualizzata la modifica la strada però resta con nome precedente in visualizzazione mentre se la si interroga appare con il nuovo nome se si zooma al massimo vedrete che tra qualche minuto cambierà agli zoom elevati e poi man mano bisogna aspettare un po' magari appunto togliendo la cache dal browser del visualizzatore perfetto grazie mille anche da parte sua non vedo altre domande per cui casomai le riprendiamo alcune cose benissimo grazie perfetto allora sì adesso incominciamo a vedere in linea semipratica quindi non facciamo dell'editing adesso lo vedremo insieme a Marco successivamente come si può o che strumenti ci sono per modificare le informazioni in OpenStreetBag quindi abbiamo visto cosa si può vedere con tutte le sfumature che Marco ci ha presentato ora vediamo quali sono le modalità principali per inserire le informazioni e inizialmente con una slide molto generale su come si contribuisce allora per contribuire dopo parleremo anche un po' dell'etichetta diciamo di come si deve contribuire in modo positivo ma in linea di generale ci sono tre modalità principali con cui un utente può inserire informazioni e la prima è quella più quella classica con una mappatura sul campo che è field mapping in inglese nella quale la persona osserva qualcosa direttamente sul mondo reale camminando per strada o andando in macchina e la osserva la registra in qualche modalità e e quindi è un testimone diretto dell'elemento che viene mappato ed è anche la parte più sociale e divertente soprattutto quando si inserisce in eventi come i mapping parties o degli eventi di mappatura collettiva che quindi permettono anche di interagire con le persone e non fare un lavoro autonomo la mappatura probabilmente sicuramente adesso più utilizzata l'anno scorso purtroppo essendo impossibile anche muoversi per un certo periodo è la mappatura da remoto armchair mapping quindi dal divano perché è una mappatura che consiste nell'utilizzare informazione dalla digitalizzazione di immagini aerosatellitari che vengono rese disponibili con la giusta licenza nel senso ci sono varie set di immagini fornite per esempio da già menzionate Bing o Esri o altre ditte che forniscono dei tile utilizzabili che hanno permesso formalmente esplicitamente a OpenStreetMap di derivare informazione quindi di digitalizzare ricopiando gli elementi che sono visualizzati sull'immagine per inserire in OpenStreetMap una puntualizzazione che è importante da dire perché per esempio non si può utilizzare Google Maps o Google Earth per digitalizzare elementi da inserire in OpenStreetMap perché la licenza non lo prevede non lo permette quindi si può utilizzare solo quello che rende disponibile in modo formale l'informazione con licenza aperta compatibile con OpenStreetMap e poi c'è una terza modalità di inserimento di inclusione dati in OpenStreetMap che è quella dell'importazione è una forma di importazione diretta quindi si caricano dei set di dati disponibili magari resi disponibili da amministrazioni locali o da enti o tramite una mappatura fatta in altri contesti e vengono inclusi in OpenStreetMap se sono compatibili con la licenza OVDL è un'operazione molto impattante quindi è importante perché soprattutto all'inizio ha permesso di arricchire di molte informazioni la mappa è delicata e potenzialmente pericolosa perché può confliggere con elementi già presenti all'interno del database perché non si possono sovrapporre elementi che rappresentano la stessa cosa nel mondo reale quindi è riservata ad utenti esperti deve essere documentata discussa si chiede diciamo il permesso e anche formalmente bisogna sapere che procedure sia tecniche che di discussione fare ci sono delle pagine apposta che descrivono queste modalità mi collego alla domanda che c'è stata anche prima anche sulla licenza spesso le licenze dati che vengono con cui vengono forniti gli open data delle amministrazioni comunali italiani regionale spesso la CC BY non è pienamente compatibile quindi ci vuole un passaggio in più quindi anche questa è un'attenzione da avere quando si inseriscono informazioni comunque il riassunto è che qualsiasi sia la modalità quindi del rilievo su campo da immagine satellitare o da ogni import alla fine serve un editor un software uno strumento che permette di passare dalla fase di raccolta dell'informazione alla fase di editing e di inclusione del database quindi ci vuole un elemento che ci aiuta a buttare dentro un database così ricco come quello di open street ma con le modalità adeguate il punto di riferimento di partenza per tutti i mappatori soprattutto quelli nuovi è ID che si trova dall'interfaccia dal portale openstreetma.org quindi è quello di default da cui si parte e vi accenno alcune informazioni di base poi sarà l'editor principale con cui Marco vi guiderà in una sessione più interattiva e più pratica di editing quindi è è incluso nella portale openstreetma.org nella pagina openstreetma.org ed è basato su browser è web based quindi non bisogna scaricare niente lo si trova sul browser che viene utilizzato e è adatto soprattutto per i principianti ma non è un editor che va bene solo per i principianti permette anche di fare un editing delle modifiche avanzate ha molte customizzazioni ha molte liste già preconfigurate quindi aiutano a inserire le informazioni ha un'utile guida interattiva che è la prima volta che vi registrate su openstreetma viene proposta come diciamo la prima possibilità per non fare troppo errori che è una delle cose a cui bisogna stare attenti quando si inizia a mappare e permette appunto di inserire informazioni di fare un test e vi guida nelle informazioni principali nelle funzioni principali e poi per utenti più esperti c'è un editor che invece è per desktop quindi bisogna scaricarlo all'interno del proprio pc che è pensato per utenti già più esperti e permette molte più cose è molto orientato a openstreetmap e ha funzionalità avanzate che anche queste vedremo brevemente con 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 Marco successivamente solo probabilmente un accenno e però questo ve lo faccio vedere anch'io adesso vediamo se Marco avrà tempo di fare degli edit con questo però vi faccio vedere indicativamente com'è l'interfaccia vedete che lo avvio dal mio pc è un GIS diciamo che permette di iniziare con una mappa interattiva che voi potete navigare sulla quale disegnare un rettangolo che vi permette di scaricare le informazioni contenute all'interno del rettangolo poi ci sono molte altre opzioni però molto praticamente si seleziona l'area da scaricare parte la richiesta specifica openstreetmap e lui si porta dentro tutti i dati e in questo caso siamo penso che chi lo conosce un po' l'ha riconosciuto al prato della valle a Padova e qui ci sono molte pannelli vedete che è molto ricco di informazioni e ci sono molti plugin utilizzabili vi faccio vedere questo solamente perché anche dall'interfaccia web di openstreetmap .org esiste un tasto per lanciare direttamente JOSM invece che l'editor id nel browser quindi con questo tasto aprite l'interfaccia l'area visualizzata nella mappa direttamente nell'editor desktop ho fatto un passaggio molto veloce ma poi vediamo se ci sarà il tempo per fare dei mini edit con questo editor devo dire che la maggior parte degli utenti esperti in openstreetmap alla fine si muove verso l'utilizzo di JOSM nel nel lavoro di mappatura poi ci sono anche molte app la modalità semplificate tramite smartphone per inserire informazioni in openstreetmap ci sono tantissime app credo non abbiamo una sezione specifica durante questa presentazione per usare visualizzare fare routing con app specifiche da smartphone oggi vi presentiamo molto velocemente 3-4 applicazioni che vi permettono di inserire da cellulare informazioni su openstreetmap e la prima che è la più ricca nel mondo android si chiama Vespucci vedete il link lì sopra e la potete scaricare sia da fdroid che da google play è un editor avanzato più per esperti che permette una libertà massima di editing con molti preset e vi permette anche di avere un lavoro offline di scaricarlo dove avete campo e andare a mappare direttamente su campo senza essere necessariamente collegati alla rete adesso vediamo se funziona vi faccio vedere molto velocemente se mi funziona tutto ok Paolo mi conferma che vedi l'interfaccia del cellulare sì perfetto Alessandro grazie ecco vedete questo è il cellulare compre installate le applicazioni di cui vi parlavo Vespucci ha questa iconcina nera sulla sinistra è un'interfaccia ovviamente che vi mostra la mappa di openstreetmap di base ci sono dei menu semplificati se si zooma si ha la possibilità di anche qui andiamo sulla stessa zona di inquadrare una zona la limito molto e di con le due freccette che ci sono in basso al centro di scaricare la visualizzazione corrente quindi anche qui ha scaricato nel cellulare i dati e essi possono essere modificati in alto a sinistra c'è un lucchetto io le prime volte che lo usavo sono andato avanti delle mezz'ora a cercare di capire come modificare c'è un lucchetto che vi abilita a modificare le informazioni se cliccate su ogni elemento potete spostarlo modificare i tag non è un tutorial questo ma per farvi vedere che si può fare tutto da aggiungere tag aggiungere elementi specifici aggiungere spostare elementi esistenti aggiungere ways poligoni eccetera eccetera quindi dopo una volta che uno aggiunge delle informazioni con la doppia freccetta è possibile caricarle sul server e quindi fare un editing diventamente ovviamente bisogna essere logati con il proprio profilo per street map anche in questa applicazione che si chiama Vespucci poi c'è molto di più si possono anche aggiungere fare foto si può modificare aggiungere degli sfondi per mappare in funzione delle informazioni di immagini satellitari e quindi è una specie di GIS orientato open street map sul cellulare e la seconda applicazione che voglio farvi vedere è Osmand Osmand è come dice il nome un'applicazione orientata che utilizza esplicitamente open street map sia Android che iOS con delle differenze di di aggiornamenti di versioni si rincorrono un po' è principalmente Android ma iOS è quasi alla pari come funzionalità e ha un editing semplice ma intuitivo si possono solamente modificare nei tag o inserire nuovi point of interest quindi punti elementi puntuali non way o relazioni e permette di scaricare le mappe di open street map offline quindi di fare tutte le cose che fa l'app anche senza connessione e ha molte componenti aggiuntive tra cui quelle classiche di routing di registrazione tracce dps profili professionalizzati la possibilità di scattare foto e registrare note vocali e anche questa se ce la faccio vi faccio vedere qual è l'interfaccia eccola qui siamo sempre a Padova perché mi sta a mia d'origine ne approfitto per avere un luogo comune da far vedere questa è una applicazione da smartphone più generalista che vi permette di visualizzare la mappa di fare routing per esempio in questo caso vi dice voglio andare qui lì puoi scegliere la modalità di mezzo da utilizzare vedete in alto la macchina bici a piedi tramite trasporti urbani e c'è un plugin che permette di inserire informazioni per esempio facendo un tap lungo è possibile aggiungere crea pdi e crea un elemento all'interno di OpenStreetMap oppure si può aggiungere una nota vedete apri una nota in OpenStreetMap però è anche molto utile per fare quel rilievo quel feed mapping quel rilievo sul campo io lo uso per esempio molto facendo registrando una nota audio oppure scattando una foto che è già localizzata e quindi poi quando arrivo a casa ho tante note localizzate che posso poi tradurne tramite gli editor di cui abbiamo parlato prima in informazioni da inserire in OpenStreetMap e andando verso applicazioni più semplificate cito anche StreetComplete che è un'altra applicazione che invece ha un approccio più guidato semplifica molto l'informazione e anche l'input che può dare l'utente è orientata al miglioramento dell'informazione in OpenStreetMap e quindi modifica gli elementi soprattutto i tag quindi arricchisce le informazioni o corregge le informazioni già presenti gli attributi diciamo così di elementi puntuali o lineari o reali già presenti e permette di scaricare le informazioni di una zona è un po' più interattiva una specie di gioco perché ti propone dei task delle azioni e tu devi risolverle ovviamente è pensata per uno che è sul campo quindi vede le cose può arricchire di informazione e richiede il download delle informazioni quindi richiede una connessione ultima dimostrazione veloce di StreetComplete anche qui in interfaccia vedete che le rappresentazioni sono leggermente diverse perché ognuno può avere la sua renderizzazione e qui se si zoom abbastanza si può si scarica in automatico forse queste le avevo già precaricate i task e vedete che ci sono varie cose suggerite per esempio questo che è un simbolo di un nomino su una strada chiede questa strada ha un percorso pedonale come marciapiede o un portico e uno può dire sì o no e quindi vedete sì separato è varia a seconda del percorso oppure questo chiede se ci sono del quali sono gli orari di apertura di questo ristorante e via via uno può arricchire le informazioni con delle quest le chiamano quindi con delle sfide che possono essere personalizzate qui nelle impostazioni vi faccio vedere che si possono selezionare le missioni e sono tantissime quindi uno può avere delle missioni specifiche quindi oggi mappo certe tipologie di informazioni come le piste ciclabili oppure i numeri civici e qui vedete che ci sono centinaia di missioni che possono essere diciamo compiute da utenti che si trovano nella zona e possono mappare questi elementi direttamente è un po' più giocosa come applicazione quindi per alcune modalità anche di interazione di mappatura di gruppo può essere veramente efficace e si arricchiscono sempre di più queste missioni perché è una comunità molto attiva per esempio qui nell'immagine nella slide facevo vedere ci sono le missioni specifiche sulla superficie stradale che dicono qual è la tipologia di superficie della strada che la pavimentazione della strada che stai percorrendo cito go map che è per ios non la conosco perché sono un utente per android però è un po' corrispondente di Vespucci nel senso che è molto ricca permette di non solo modificare ma creare sia punti che way sia nodi che way e quindi ci si può fare più o meno tutto e permette anche di fare un lavoro offline cito anche questa pagina della wiki in cui c'è una selezione con varie classificazioni delle funzionalità di molte app che magari hanno degli scopi anche specifici però questa è la pagina degli editor di OpenStreetMap credo comunque che con ID e con JOSM per la parte desktop si è coperto il 99% delle delle funzioni o delle mappature in OpenStreetMap e quelle che ho mostrato quindi Vespucci Osmond StreetComplete e GoMap siano una buona percentuale o rappresentino le funzionalità più avanzate più comuni di un editing tramite smartphone e chiudo questa mia sezione con degli esempi delle cose un po' più complesse quindi quando si parla di import questo è un esempio delle schede tecniche che vengono richieste per fare un import strutturato bene di un dataset per esempio pubblico come quello della provincia di Biella è stato fatto alcuni anni fa e deve essere documentato deve essere documentato anche il tipo di script che modifica e inserisce i dati e quindi richiede una certa conoscenza sia delle procedure che di tecnologia e questo è un esempio appunto dell'inserimento che richiede anche la citabilità cioè che sia documentata da dove viene il dataset e questo è inserito nella documentazione che ho fatto vedere prima e un accenno anche a una cosa più recente spesso le amministrazioni appunto rilasciano dei dataset in open data se stimolate dalla comunità o se consapevoli già di per sé hanno anche la capacità e la conoscenza di aggiungere dell'informazione degli addendum in questo caso alle licenze standard come la CC BY che ne permettono l'importazione formalmente riconosciuta anche all'interno di OpenStreetMap quindi dicono ok oltre alle libertà permesse dalla CC BY esplicitiamo che siamo contenti che possa essere inserito e incluso anche in OpenStreetMap e in questo caso è un dataset del comune di Milano su gli esercizi commerciali che fornivano consegne a domicilio durante l'emergenza del primo lockdown questa è una buona diciamo collaborazione con le amministrazioni per poter avere date di qualità e aggiornate all'interno di OpenStreetMap e io ti ripasso Marco la parola per la prima fase di mappatura più diretta grazie Alessandro ricondivido il mio schermo ok e magari chiudo la chat ok allora dovreste vedere di nuovo il mio schermo prima di iniziare volevo farvi vedere due link che mancavano nelle slide che sono il primo è questo con le modifiche in real time o meglio i change set in real time ve l'ho raccontata prima senza farvela vedere in tempo reale perché non c'era il link nella slide però vedete un po' rallentato per via della rete ma vedete i puntini rossi apparire e scomparire e a destra vedete i singoli change set quindi il testo il testo quindi che spiega le modifiche e in alto a destra vedete questo countdown ok adesso dovreste vederlo come vedete ci stiamo avvicinando ai 100 milioni di change sets che saranno naturalmente un traguardo storico per il progetto l'altra cosa che voglio farvi vedere è invece il visualizzatore d'indoor anche in quel caso mancava il link nella slide allora qui chiaramente i dati indoor non esistono dappertutto qui sono andato a Parigi perché so che in qualche punto esistono questa è la stazione di Gardelest quindi se andiamo a zoomare lui eccolo qua lui insomma comincia a farci vedere una visualizzazione diversa dalla precedente e come vi dicevo prima se andiamo poi a modificare il piano quindi il livello a cui ci troviamo ecco che cambia la visualizzazione dei dati di OpenStreetMap e poi possiamo anche cliccare e vedere sostanzialmente quali sono i tipi di elementi ripeto sono solo visualizzatori quindi modi diversi di visualizzare alla fine sempre i dati che stanno nel database di OpenStreetMap torniamo a noi e quindi iniziamo questa parte un pochino più pratica non rimasto indietro scusate ecco qua sulle modifiche di OpenStreetMap inizio in realtà prendendo spunto dallo strumento che utilizzeremo per mappare per parlarvi in generale di due organizzazioni umanitarie o prima ancora della mappatura umanitaria di OpenStreetMap che rappresenta un qualcosa di molto importante all'interno del progetto quindi uno degli utilizzi del database lo abbiamo già intravisto prima con l'immagine di Kibera però diciamo per formalizzare un pochino meglio qui vedete a destra e a sinistra due organizzazioni globali che si occupano di gestire l'emergenza umanitaria con la mappatura a sinistra abbiamo HOT che è lo Humanitarian OpenStreetMapTeam che è un'associazione no profit a sede negli Stati Uniti ed è un'organizzazione che svolge un ruolo molto 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 importante perché è quella che coordina di fatto la mappatura umanitaria in tutte quelle aree dove purtroppo accadono disastri naturali o crisi umanitarie o quant'altro qui c'è un video vediamo se la rete ancora una volta mi sostiene che fa vedere praticamente cosa è successo nel 2010 dopo il terremoto di Haiti che è stato un pochino l'inizio per la prima volta si è capito veramente l'importanza di diciamo quanto i volontari che chiaramente erano erano in giro per il mondo potessero dare in tempi brevissimi contribuendo veramente in lo vedete in basso a sinistra la scala temporale gennaio 2010 potessero contribuire a mappare praticamente il post terremoto con in quel caso le immagini satellitari diciamo del post quindi con edifici crollati con le strade inagibili con i luoghi dedicati ai rifugi e quant'altro sostanzialmente questo è per farvi capire un pochino di cosa stiamo parlando quindi diciamo dopo il terremoto di Haiti si è formata HOT che si è proprio costituita come come organizzazione simile ma diversa in realtà è Missing Maps Missing Maps ha proprio lo scopo di creare le mappe dove le mappe sono missing cioè dove le mappe mancano quindi in realtà non di intervenire dopo i disastri ma in previsione o per ridurre il rischio dei disastri naturali quindi diciamo l'idea è proprio di mettere le persone che mancano dalle mappe proprio di metterle sulla mappa come dicevo all'inizio quindi aree particolarmente vulnerabili del pianeta aree che sono esposte per esempio a disastri naturali a epidemie e quant'altro sono oggetto proprio di mappatura di queste organizzazioni lo strumento che è quello che utilizzeremo tra un attimo che si utilizza in generale per gestire la collaborazione di tante persone sparse per il mondo su uno stesso progetto si chiama Tasking Manager ed è uno strumento proprio sviluppato da HOT e mantenuto da HOT quindi è proprio uno strumento software che è stato creato ad hoc per la mappatura umanitaria è uno strumento open source tutto il codice lo trovate sulla repository GitHub di cui vedete il link qui e l'istanza del Tasking Manager di HOT magari ve la faccio vedere al volo si trova a questo indirizzo qui vedete tutti i progetti attualmente attivi di HOT che sono sostanzialmente vedete progetti in Botswana per esempio qui siamo in qui siamo in India insomma lì vedete un pochino sparsi per il mondo questo è lo strumento ripeto che utilizzeremo anche noi tra poco però mi interessava a farvelo vedere qui quindi qui vedete per esempio solo in India quanti diversi progetti esistono e se ne apriamo uno diciamo a caso solo per farvi vedere in cosa consiste vedete che sostanzialmente ci sono c'è sempre una descrizione del progetto e che vi dice praticamente perché il progetto è stato creato quindi chi ha richiesto il progetto e a cosa servirà praticamente la mappatura fatta dai volontari con questo però non voglio perdere ulteriore tempo perché il focus è in realtà il tasking manager della comunità italiana di OpenStreetMap che è lo stesso identico software però è un'istanza gestita dalla comunità italiana in particolare un'istanza che è stata diciamo creata e viene mantenuta da Wikimedia Italia che come dicevo prima è il capitolo italiano locale della nazionale della OpenStreetMap Foundation dunque l'idea sarebbe proprio di concentrarci tutti insieme per chi naturalmente vuole seguire vuole provare a mappare e a seguirmi in tempo reale su 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 un progetto intanto farvi capire però anche come funziona il tasking manager il tasking manager non è un editor quindi per questo motivo Alessandro non ve l'ha fatto vedere ma è uno strumento che fa sì che tante persone diverse possono collaborare utilizzando ovviamente editor e adesso capiremo perché è utile allora il link è nella slide lo vedete anche qui vi prego magari ve lo faccio rivedere ancora un attimo sulla slide se volete fare uno scritto l'ho messo sulla chat Marco sì ah perfetto grazie mille allora io adesso proverò a diciamo a usarlo e racconterò che cosa sto facendo però è importante secondo me anche utile nella parte pratica se c'è qualcosa che non è chiaro o qualcosa che vedete magari nello schermo ma che non su cui non mi soffermo insomma qualsiasi richiesta magari fatela nella chat Alessandro sentiti libero di fermarmi e magari di chiedermi di far vedere qualcosa o di tornare indietro o di spiegare meglio una certa una certa cosa allora qui dicevo bisogna essere logati bisogna avere un account quindi se non avete un account registratevi se ce l'avete invece fate l'accesso questa è la prima cosa fondamentale quando fate l'accesso avete va bene un pochino di informazioni sul vostro profilo personale però la cosa importante è poi selezionare i progetti disponibili quindi il tasking manager di Wikimedia Italia è un tasking manager che viene utilizzato da diversi anni anche se recentemente è stato aggiornato all'ultima versione quindi trovate tanti progetti in realtà li vedete anche qui oggi lavoreremo su questo che è il progetto numero 76 il link è nelle slide che vi daremo ed è un progetto che è stato creato una o due settimane fa dalla comunità italiana per migliorare la mappatura a Asti quindi in Piemonte quindi come funziona lo vedete qui il tasking manager c'è un progetto un titolo a destra abbiamo una vista per ora abbastanza sommaria della zona e una piccola descrizione che diciamo dà un pochino di contesto in questo caso raccogliendo l'invito degli operatori del numero unico di emergenza piemontese che usano OpenStreetMap e qui torniamo al discorso di prima chi usa OpenStreetMap viene anche usato per le emergenze quindi non viene solo usato per fare visualizzazioni belle dei dati ma viene utilizzato anche per scopi tra virgolette seri c'è questo progetto Improve Asti per coprire le lacune della mappatura quindi Wikimedia Italia ha messo in piedi questo task sul tasking manager e l'idea è quella di ottenere una mappatura di base mappatura di base vuol dire mappare quello che si può mappare dalle immagini satellitari chiaramente non si può mappare tutto perché non posso sapere qual è l'indirizzo di una casa perché dal satellite non si vede ma posso mappare perlomeno edifici strade posso mappare degli usi del suolo eccetera a questo punto la prima cosa da fare è cliccare il tasto contribuisci che ci fa arrivare a questa nuova schermata in cui a destra vediamo uno zoom maggiore dell'area di interesse a sinistra vediamo importantissimo delle istruzioni mappa secondo le tue conoscenze e capacità per esempio puoi limitarti a mappare solo gli edifici quando salvi le modifiche che hai fatto aggiungi nel commento cosa hai mappato quindi questa è una buona norma sempre in OpenStreetMap perché è importante perché tutte le modifiche fatte a OpenStreetMap sono sempre salvate nel database insieme ai dati quindi la storia di OpenStreetMap esiste ed esisterà sempre quindi è fondamentale se qualcuno un giorno trova la vostra modifica e magari vuole sapere di più magari non è convinto vuole capire perché avete mappato in un certo modo è fondamentale che lui o lei possa risalire alla vostra modifica e magari col vostro commento capire di più sulla vostra modifica come vedremo qua nel commento sarà già preimpostata una stringa non modificarla perché serve e vedremo perché serve qui ci sono delle istruzioni specifiche per il Tasking Manager che vi dirò tra un attimo ecco l'idea è che qui si debba mappare un pochino tutto perché si parlava di mappatura di base però perlomeno si richiede di mappare strade edificato e corsi d'acqua quando questi tre diciamo questi tre tipi di oggetti sono mappati si può dichiarare completamente mappato il riquadro ci arriviamo tra un attimo e poi qualche qualche altra indicazione su dubbi e domande allora facciamo uno zoom magari brevissimo qui per capire che cos'è questa mappa che stiamo vedendo e questo è il valore aggiunto del Tasking Manager come vedete l'area da mappare che può essere un'area molto grande in questo caso un'intera provincia è diviso in quadratini o riquadri e eventualmente sotto quadratini i quali hanno un colore e il colore definisce lo stato attuale di quel quadratino allora i quadratini bianchi sono disponibili per la mappatura i quadratini quindi facciamo un passo indietro sono disponibili per la mappatura vuol dire che quello che faremo tra un attimo selezioneremo un quadratino e andremo a mappare a questo punto dopo averlo mappato noi potremo dire sì ho mappato tutte le strade tutti gli edifici tutti i corsi d'acqua e quindi lo possiamo dichiarare completo se dichiariamo un quadratino completo questo apparirà in verde scusate apparirà in ho sbagliato apparirà in azzurro cioè pronto per la validazione quindi completato ma pronto per un secondo step che è quello della validazione che vuol dire che qualcun altro cioè un utente diverso da quello che ha completato dovrà o potrà insomma rivedere il quadratino quindi se io cliccassi adesso sul quadratino azzurro potrei validare cioè potrei andare a vedere cosa ha fatto l'utente prima di me e accettare e quindi in quel caso diventerebbe finito oppure rifiutare le modifiche e dire no qui serve ancora mappare qualcosa esistono ancora delle cose che non sono state mappate e quindi diventerebbe giallo ok poi ci sono delle aree prioritarie se chi crea il progetto le vuole creare oppure non disponibile non disponibile vuol dire che ad esempio io inizio a mappare ma mi accorgo che l'immagine satellitare è così scarsa o per esempio è tutta nuvolosa questo capita quando si mappa diciamo in determinate aree del mondo non ci sono le immagini spesso così belle così recenti come le abbiamo in Italia capita spesso che un riquadro non sia proprio disponibile l'immagine e quindi lo si dichiari quindi quello che farò adesso è che potete fare voi se lo volete è selezionare un quadratino quindi selezionatene uno bianco o uno giallo perché anche quelli gialli vuol dire che c'è ancora qualcosa da mappare magari sceglietene uno bianco che avete più possibilità di trovare qualcosa non mappato qui potete scegliere l'editor in realtà appunto due editor sono supportati ID e JOSM che Alessandro ha introdotto al volo prima quindi io scelgo ID che è il più facile e clicco mappa il compito selezionato a questo punto l'editor ID che è non è altro che l'editor disponibile al sito openstreetmo.org ve lo faccio vedere qua l'editor ID non è altro che l'editor che c'è già nel sito openstreetmo.org quando io clicco modifica entro nell'editor ID ok quindi JOSM scusate il tasking manager non si sono inventati niente semplicemente hanno fatto un collegamento hanno embeddato l'editor ID qua dentro quindi a questo punto quello che è importante è il mio quadratino in questo caso rosa cioè non devo mappare al di fuori del quadratino perché? perché nel caso pensate di progetti umanitari con tantissime persone che mappano nello stesso momento o se molti di voi stessero mappando in questo momento io potrei correre il rischio di mappare in un quadratino adiacente in cui qualcun altro potrebbe mappare nello stesso momento e quindi avremo dei conflitti sul database uno di noi probabilmente riuscirebbe a salvare le modifiche l'altro no quindi l'idea è seleziono il quadratino e se lo faccio ma magari non fatelo se state mappando torno indietro dovreste vedere una cosa importante esatto questo cioè alcuni quadratini sono bloccati ci sono degli utenti che hanno bloccato i quadratini che stanno mappando lì dentro il rosso è il mio i quelli neri sono penso spero qualcuno di voi che sta che sta mappando quindi che ha bloccato un quadratino questo è utile perché se adesso arrivasse un altro utente vedrebbe che qualcuno sta già lavorando in quelle zone quindi ne selezionerebbe un altro quindi io torno al mio quadratino riprendi la mappatura e zoom per arrivare effettivamente a vedere i dati di OpenStreetMap quindi zoom da qualche parte la cosa che vi chiedo o chiedo a quelli che insomma stanno lavorando è diciamo di provare a trovare degli edifici magari rettangolari che non sono mappati quindi le cose che sono mappate le vedete perché vedete proprio le linee i punti e i poligoni quindi vedete gli oggetti i vettoriali sullo sfondo dell'immagine quindi ho trovato un edificio magari per chi mi sta seguendo provate a trovare un edificio anche voi rettangolare quindi diciamo un poligono regolare sufficientemente semplice e vediamo insieme come mappare ripeto partiamo dall'edificio perché è semplice allora in alto no intanto qua a destra avete alcuni menu quello più importante forse è ancora questo dei layer quindi qui potete cambiare la mappa di sfondo in realtà i progetti del task manager hanno già preimpostata una mappa di sfondo e qui veniva chiesto esplicitamente di utilizzare la as reward clarity scusate as reward imagery clarity beta che è già quella che stiamo vedendo quindi quella preimpostata altrimenti comunque potete cambiare immagine satellitare perché ce ne sono tante perché c'è un suggerimento dipende allora in generale non c'è un'immagine migliore di un'altra ma tutto dipende dalla zona quindi esistono delle immagini diciamo prettamente italiane che sono quelle del portale cartografico nazionale PCN portale cartografico nazionale del 2006 e del 2012 che in generale vanno bene come accuratezza come posizionamento però in realtà il dettaglio è la risoluzione insomma è un po' quella che è quindi in generale esistono anche altre immagini appunto di provider commerciali tornando al discorso di prima provider che hanno dato il consenso ad utilizzare le proprie immagini per caricare dati in OpenStreetMap Esri Bing Mapbox Maxar hanno tutte dato il consenso come vedete qui non c'è Google perché non si possono usare dati Google per derivare dati OpenStreetMap quindi rimaniamo a Esri World Imagery Clarity Beta e vediamo come fare ad aggiungere un edificio allora qui in alto potete dal menu facilmente selezionare punto, linea o area in questo caso stiamo mappando vogliamo mappare un area quindi selezioniamo clicchiamo area e non facciamo nient'altro che non seguire sostanzialmente il contorno dell'edificio ora apro una piccola parentesi in realtà in OpenStreetMap quello che si mappa è l'ingombro al suolo dell'edificio che però non è tipicamente visibile dalle immagini satellitari quindi in realtà se si avesse una conoscenza locale della zona e delle gronde degli edifici qui bisognerebbe magari stare un pochino più indentro tra virgolette però sono cose che chiaramente non si possono fare quindi se avessimo un import avremmo gli edifici con il loro ingombro al suolo perfetto quindi l'import è sempre la cosa migliore ma ovviamente per fare l'import serve avere data se non c'è data se si mappa come si può quindi mappo l'edificio disegno il mio poligono non ho fatto altro che cliccare sui vertici per chiudere il poligono posso cliccare sul vertice iniziale o quello finale insomma in questo modo ho chiuso il poligono ora ci sono due cose da fare il primo la prima è quella di ortogonalizzare il poligono cioè di fare gli angoli retti per farlo si posiziona il cursore su uno dei lati del mio poligono tasto destro e si clicca il tasto ortogonalizza che rende retti gli angoli di questo elemento ok seconda cosa come abbiamo detto prima per ora ho solo una geometria naturalmente devo renderla un edificio quindi devo aggiungere il tag edificio allora id permette di farlo in due modi quando si disegna una geometria adesso di default è stata vedete qui c'è area in realtà c'è subito un errore o meglio un warning dell'editor che mi dice area non ha etichette quindi selezioniamo un tipo di elemento e qui io ce l'ho in alto credo perché o l'ho usato recentemente o non sono sicuro che tutti l'abbiate in alto se non l'avete in alto digitate edificio se avete il browser in inglese scrivete building e dovreste trovare esattamente questa stessa questa stessa immagine dell'edificio e potete selezionare edificio quindi diciamo pur senza sapere niente del modello non del del modello dati o comunque dei tag avete creato un edificio se andate in basso vedete che avete creato un poligono con un'etichetta che è esattamente building uguale yes che come dicevamo prima è il tag generico per un edificio di cui non si conosce la destinazione d'uso se conoscessimo la destinazione d'uso sapessimo che questo è per esempio un edificio fatto da appartamenti lo mapperemmo come building uguale apartments e questo è quanto se vogliamo mappare un edificio come avete capito molto semplice infatti a scopo umanitario è molto semplice aiutare questo vi fa capire in realtà che chiunque può veramente aiutare per lo meno a scopo umanitario quando c'è veramente bisogno di dati in tempi in tempi brevi quindi se vogliamo possiamo rifarlo per un altro edificio ne cerco magari un altro più o meno semplice eccolo qua e lo faccio velocemente di nuovo quindi giusto per ripetere disegno i disegno i lati del mio edificio chiaramente se non faccio un rettangolo perfetto non è un problema posso andare appunto a sistemare e poi devo sempre ricordarmi di ortogonalizzare e poi di aggiungere il mio il mio tag edificio chiaramente posso anche non aggiungere non devo per forza cercare diciamo qua dentro quello che mi serve se io conosco so quello che sto mappando e conosco il tag lo scrivo direttamente qui quindi in realtà vedete che se io scrivo building qui mi compare l'elenco dei possibili valori che il tag che la chiave building può assumere in questo caso lascio yes una cosa importante poi è salvare i dati salvare i i nostri contributi allora per salvare i contributi c'è un icona un bottone salva e questo è anche importante allora si deve sempre fare un commento come dicevamo al gruppo di modifiche di default vedete degli hashtag cioè delle parole chiave che sono già state preimpostate da chi ha creato il progetto e servono a fini statistici vi mostrerò a breve il perché e poi si può aggiungere un commento per esempio io dico aggiunti edifici volendo sempre buona norma aggiungere anche la fonte delle nostre modifiche la fonte delle mie modifiche era Esri Imagery Clarity Beta per esempio insomma diciamo che le fonti possono essere o l'immagine satellitare oppure se siete andati cosa più importante a vedere una cosa sul luogo scrivete sempre survey cioè proprio controllo rilievo sul campo ok quindi qualunque sia la sorgente delle vostre modifiche dichiaratela e poi si possono caricare le modifiche e questo sostanzialmente chiude diciamo il mio change set quindi un change set è un insieme di modifiche quindi io ho creato un change set che ha di base due modifiche cioè due oggetti creati ok quindi ho fatto un change set un insieme di modifiche creando due edifici qui ottengo dei messaggi ho appena modificato OpenStreet ma per poi qualche qualche informazione su come posso unirmi agli altri in questo caso vedete alla comunità del Piemonte mailing in gris del Piemonte canale tele Grandi OpenStreet Map Italia una comunità Facebook Twitter eccetera eccetera quindi trovate già un qualcosa di molto utile al volo riguardo alla comunità italiana come trovare assistenza eccetera adesso voglio farvi vedere una cosa al volo quindi mappare diciamo edifici è facile non pensate che sia tutto proprio così così facile se per esempio andiamo a mappare una strada adesso magari ve lo faccio vedere io qui vedo una strada che non è mappata vedete questa seguite il mio cursore vedo una strada che non è mappata voglio mapparla a questo punto se voglio mapparla però devo cominciare a dirmi va bene come si mappa la strada e devo sempre ricordarmi che esiste una wiki come ritrovare la pagina scusate che ho questa barra di zoom la ricerchiamo devo ricordarmi naturalmente devo sempre avere ben presente la wiki in testa quindi la wiki è la bibbia come dicevo prima quindi voglio mappare una strada comincio a chiedermi va bene che strada che strada è e dico va bene è una strada probabilmente sterrata è una strada che non è una strada principale non è un'autostrada è una strada che diciamo porta probabilmente a una proprietà terriera porta probabilmente in mezzo ai campi insomma faccio le mie dovute analisi valutazioni qui vado a cercare naturalmente il tag highway eccola qua e adesso io ho un po' di esperienza però chi non ha esperienza appunto non deve farsi prendere dall'entusiasmo ma deve guardare attentamente la wiki e l'idea è trovare il tag giusto il tag giusto in questo caso è track che è una strada tipicamente a uso agricolo e forestale quindi tipicamente quando avete una strada sterrata che magari porta appunto a dei campi oppure unisce magari anche degli insediamenti però in zone piuttosto agricole piuttosto che forestali il tag è highway track quindi in questo caso io quello che faccio è disegnare una linea cosa molto importante sempre connettere la strada alle strade già esistenti perché gli algoritmi di routing ovviamente devono poter lavorare con strade che hanno nodi che combaciano e vado a disegnare la mia strada quindi semplicemente è un disegno quello che sto facendo però come sempre supponiamo di volerla far terminare qui poi posso sistemarla come voglio come sempre oltre alla geometria aggiungo aggiungo il tag in questo caso io non ricordo quale sia se è tag minori eccetera però so so che questa è highway track e in questo caso per esempio decido di scriverlo direttamente io highway e qui scrivo o magari cerco dall'elenco il tag track quindi questo è solo un esempio per farvi vedere come si dovrebbe mappare non vuol dire che gli utenti principianti debbano iniziare dalle strade perché come vi ho fatto capire tutto richiede un minimo di lettura della wiki un minimo di conoscenza dei tag si impara poco alla volta il mio consiglio si parte dagli edifici poi si guarda alla rete stradale quindi vedete questa è una strada per esempio seleziono la strada gialla che vedo già questa è una strada secondaria è una strada provinciale cerco di capire perché questa è provinciale perché questa per esempio è unclassified unclassified ad esempio è un tag che non vuol dire che è una strada di cui non conosco la classificazione questa è una particolarità quindi non bisogna non è come per gli edifici quando non so cos'è dico yes in questo caso unclassified vuol dire una strada minore che però non ricade nella classificazione primaria secondaria terziaria sono tutte cose che si sanno si conoscono un po' nel tempo devo dire con un po' di esperienza quando non so come mappare qualcosa magari evito di mapparla o chiedo magari nella mailing list italiana o nel gruppo telegram dopo avrete tutti i contatti insomma cerco diciamo di avanzare per livelli perché è molto molto facile credetemi commettere degli errori vi faccio solo vedere un esempio anche per anticipare un pochino il discorso della qualità se io facessi una strada ad esempio che incrocia un edificio questo lo faccio ovviamente non fatelo ma è solo per farvi vedere il fatto che l'editor di per sé dovrebbe riconoscere che qualcosa non passa io faccio una strada per esempio residenziale che incrocia un edificio l'ho intravisto per un attimo eccolo qua vedete l'editor comunque diciamo per errori clamorosi appunto topologici come questo mi dice attenzione vedo qualcosa che non va perché c'è una strada che attraverso un edificio quindi lui mi propone delle soluzioni possibili quindi mappa la strada come sopraelevata come se fosse un ponte mappa la strada come sotterranea e quindi lui aggiunge i tag corrispondenti riposiziona o ignora questo problema se sono veramente convinto che sia giusto ignoro cosa che ovviamente non voglio adesso non faccio e cancello immediatamente però questo è per dire l'editor vi corregge per errori che sono clamorosi però non vi dice se un tag è sbagliato ovviamente non vi dice se un tag non è quello che dovreste usare per chiudere e magari salvo la mia modifica dico che ho aggiunto strada e qui dico sempre magari fonti dico sempre come prima esri imageri poi però qui per chiudere il mio lavoro nel task manager devo fare una cosa in più importante per il progetto di appunto mappatura di asti devo sempre alla fine dire ok questo task è completamente mappato se ricordate completamente mappato vuol dire tutti gli edifici tutte le strade tutti i corsi d'acqua dico chiaramente no perché ci sono tantissimi edifici strade che soprattutto edifici che mancano da mappare oltre a tutto l'end use però l'end use non era richiesto tra gli elementi fondamentali però dico no volendo posso fare un commento posso dire molti edifici ancora da mappare o quello che voglio insomma e poi chiudo invio il task quando invio il task il mio task diciamo diventa ridiventa libero per poter essere mappato da qualcun altro e infine se andiamo a vedere contribuzioni qui vedete un elenco di persone che hanno contribuito al progetto ecco qua mentre se vado su compiti vedo un pochino lo storico in questo caso in tempo reale di quello che gli utenti stanno facendo di quello che in sostanza voi state facendo in questo momento se io vado per esempio vediamo se trovo il mio dovrebbe essere questo il mio eccolo qua vedete questo è il diciamo un po' il resoconto sull'attività 31 che è il mio quadratino ok esatto se riselezioni in mappa il mio quadratino viene automaticamente evidenziato anche qui questo è praticamente come si usa il tasking manager quindi quando ovviamente in progetti umanitari dovete immaginare che tutto questo venga molto più velocemente esistono progetti con aree anche abbastanza grandi che magari in un paio di giorni vengono completamente mappati dai volontari in tutto il mondo voglio farvi vedere l'ultima cosa qui come vi dicevo allora devo selezionare un quadratino magari ne scelgo un altro giusto per cambiare posso decidere l'editor con cui aprirlo se scelgo JOSM devo già avere JOSM aperto e io ce l'ho come vedete qui se scelgo JOSM e faccio mappa il compito selezionato quello che dovrebbe succedere è che i dati vengono i dati i dati e il quadratino vengono scaricati in JOSM e mi ritrovo già ecco qua la mia zona sta arrivando vedete mi ritrovo il mio quadratino con i dati esistenti e posso mappare in JOSM una cosa velocissima di JOSM per non perdere troppo tempo però anche per diciamo farvi vedere quanto questo editor è potente è come si mappano gli edifici in JOSM allora supponiamo di aver identificato questo edificio che è sempre un rettangolo esiste un plugin che si chiama Building Tools credo che potete attivare anche dovete prima scaricare il plugin quindi fatelo con calma dal dal menu scusate faccio fatica con questa con questa barra di JOSM allora non ricordo mai dove sono i plugin però Alessandro forse puoi ricordarmelo tu io non ricordo mai modifica preferenze o file preferenze file preferenze ce l'hai no ah JOSM preferences ok esatto dal menu JOSM preferences avete no questo avete praticamente questa è l'immagine di una spina che non è quella che ho trovato eccola qua estensioni ok qui avete praticamente una lista infinita praticamente di plugin e quindi funziona un pochino come un JIS come diciamo perché esistono plugin per fare veramente qualsiasi cosa quello che sto usando è Buildings Tools che è un qualcosa di incredibilmente utile per disegnare gli edifici vi faccio vedere perché lo capirete da soli perché io in questo caso devo cliccare il primo diciamo vertice poi automaticamente clicco il secondo vertice poi come vedete se trascino lui sta già disegnando l'edificio clicco per chiudere ma la cosa fantastica è che lui ha già messo il tag building uguale yes quindi in questo modo come potete già capire anche se lo state vedendo la prima volta posso lavorare in maniera molto molto più più veloce vediamo se trovo un edificio che può aiutarmi per farvi vedere un'altra cosa magari questo ma addirittura potete fare cose di questo tipo allora io inizio a disegnare questo edificio vedete è una specie di L se cerco di farlo bene è una specie di L per disegnare una L io posso anche fare questa cosa qua disegno il primo poi lo seleziono disegno il secondo che automaticamente diventa parallelo al primo e poi utilizzando una combinazione di tasti dalla mia tastiera seleziono il primo seleziono il secondo utilizzo in questo caso shift più j e ho disegnato il mio edificio tutto questo sono combinazioni ovviamente dalla tastiera ma esiste tutto un menu che è questo strumenti particolare devo dire questi unisci il nodo sposta il nodo disconnetti il nodo separa i percorsi quello che ho fatto io adesso è unisci aree sovrapposte che se ci prendete la mano vi fanno veramente risparmiare un sacco di tempo e mappare in maniera un pochino più avanzata non voglio insistere troppo su JOSM vi faccio vedere un paio di altre cose Marco ti aggiungo solo che anche a me era sfuggito ma il controllo remoto deve essere attivato su JOSM quindi sempre su preferenze questo richiamo deve essere attivato su JOSM per poter essere richiamato da programmi esterni come esatto sì altrimenti non riuscirei ad aprire JOSM in questo caso dal web in generale esatto grazie Ale e poi utile anche il menu preimpostazioni cioè voglio disegnare ad esempio supponiamo facciamo un esempio al volo supponiamo che qui ci sia una profumeria dico un negozio a caso io disegno il mio punto poi per dire che ho una profumeria è vero o vado a vedermi il tag quindi cerco la wiki eccetera però posso anche fare qualcosa di più furbo dalle preimpostazioni come vedete qui ho una serie di tag una serie di appunto preimpostazioni quindi di oggetti che posso aggiungere con uno o due click in questo caso cercherò sotto negozi cercherò sotto per il corpo e cercherò profumeria quindi cosa ha fatto lui beh qui ancora niente perché mi chiede il nome ovviamente supponiamo di mettere un nome a caso ovviamente poi non salverò però mi chiede una serie di informazioni per esempio se conosco gli orari d'apertura se è accessibile a utenti in sedia a rotelle in questo caso i valori possibili sono sì o no o limitato supponiamo sì applica preimpostazioni cosa è successo che ha creato il mio nodo e gli ha messo una serie di tag in base a quello che mi ha chiesto lui quindi ovviamente adesso lo cancello perché non c'è nessuna profumeria lì quindi non aggiungete niente di cui non siete sicuri però questo vi fa capire anche che JOSM è molto molto potente fa molto di più di quello che vi ho fatto vedere ultima cosa magari se siamo un po' in ritardo però vi faccio vedere l'ultimissima cosa magari vado a scegliere una zona diciamo che conosco meglio perché voglio farvi vedere Mapillari per chi lo conosce cerco una zona che conosco vediamo se sta scaricando ok che è la zona di Cernobbio semplicemente perché so che ci sono delle immagini di Mapillari intanto che cos'è Mapillari Mapillari è un'azienda che peraltro è stata recentemente acquisita da Facebook ma questo adesso non ci interessa quello che ci interessa è che Mapillari ha creato e con il contributo di tutti gli utenti mantiene un database di immagini stradali di fotografie stradali a cui chiunque può contribuire quindi chi va in macchina chi va in bicicletta può fare delle foto il risultato è caricarle su Mapillari c'è un'app che vi consiglio di installare perché è fantastica funziona benissimo voi mentre per esempio andate in macchina quindi attaccate il telefono al vetro della vostra macchina l'app funziona da sola oppure mentre andate in bicicletta attaccate al manubrio fa le foto da sola al termine caricate tutte le foto sul server e Mapillari ha un archivio immenso globale di fotografie che che è la cosa che qui ci interessa potete utilizzare per mappare in OpenStreetMap quindi per attivare le funzioni di Mapillari io ce l'ho già ma ve lo faccio vedere sotto immagini aeree qui avete due menu Mapillari e livello degli oggetti di Mapillari se li attivate poi in realtà avete questo blocco immagine di Mapillari e con Shift e virgola dovrebbe scaricare le immagini vediamo se ci sono esatto sono queste cose verdi che sono comparse spero che le vediate magari le vedete meglio se per un attimo spengo il satellite ok le vedete queste immagini verdi quindi ogni punto verde è una foto quindi se io apro una foto tra l'altro ho aperto una foto scattata da me stesso ma non sono l'unico credetemi che le scatta perché alcune zone veramente hanno valanghe di immagini cosa potete fare con queste foto potete appunto mappare quindi questa è una fonte diciamo utilissima per mappare e per mappare che cosa adesso senza dilungarci però chiaramente potete mappare una serie di cose che da satellite non potreste per esempio indirizzi vedete il civico potete mappare il civico vedete il lampione come qui sto vedendo lo mappate vedete il cestino dell'immondizia lo mappate l'albero lo potete mappare un'altra cosa utilissima il numero di piani degli edifici che abbiamo menzionato prima quindi è una sorgente potenzialmente utilissima di dati e trovate ormai immagini mapillari perlomeno nei grossi centri urbani ne trovate tante adesso io sono andato su una zona che conoscevo e ad asti non credo ne avessimo tante però in generale ecco sorgente utilissima con questo diciamo che è meglio chiudere vado rapidamente torno rapidamente alle slide dove qui avete un riassunto di quello che vi ho appena fatto vedere sul tasking manager quindi dal login iniziale alla scelta del progetto alla mappatura e alla validazione chiaramente la validazione è per utenti più esperti validazione vuol dire accertarsi che chi ha completato il quadratino abbia mappato tutto quello che era richiesto in questo caso edifici fiumi e strade a valle diciamo di un evento come quello su asti c'è questo si può usare questo utilissimo servizio del mitico Pascal Neis per fare una ricerca per hashtag l'hashtag era se non sbaglio improve asti se non sbaglio comunque c'è scritto nella pagina del tasking manager vado a memoria vediamo se ho ragione esatto improve asti vi fa vedere praticamente tutti i change set e vi da delle statistiche su tutti i change set che avevano quell'hashtag come dicevo è stato un progetto avviato un paio di settimane fa si vedete che sull'asse temporale avete avete i contributi quindi 44 utenti diversi hanno fatto in totale 79.000 modifiche 308 change set e vedete cosa hanno mappato principalmente devo dire edifici buildings ma anche highways land use e waterways quindi in totale vedete 61.000 nodi e 9.000 way ovviamente tutti in Italia quindi questo è utile per avere delle statistiche per capire diciamo dove sono avvenute le modifiche associate a un certo progetto quindi questo è utile quando tante persone lavorano sullo stesso progetto altri servizi utili di Pascal Neis questo è uno dei più famosi vi consente di vedere in tempo diciamo di avere un riassunto dell'attività di mappatura di una persona di un utente io vado con il mio utente e vedo praticamente un riassunto di cose che quell'utente ha fatto quindi i giorni in cui l'utente è attivo e quanti change set ha fatto tutti i giorni che cosa ha mappato principalmente dove ha mappato la zona diciamo maggiore di mappatura io sono abitando a Como naturalmente ho mappato a Como il primo nodo l'ultimo nodo quanti giorni all'anno ha mappato e quale editor ha utilizzato vedete ho usato principalmente JOSM ID ma anche altri tipo quelli che ha fatto vedere Ale prima sostanzialmente addirittura il giorno della settimana l'orario poi tutti i paesi in cui un utente ha mappato questo per darvi un po' di informazioni un altro invece sempre carino è una heatmap quindi anche in questo caso si mette l'utente magari Ale metto il tuo giusto per fare un po' di di parità e vedete Alessandro dove ha mappato la sua heatmap quindi principalmente in Italia e poi anche per progetti monetari immagino o per vacanze non lo so in altre parti del mondo quindi è solo per dare un'idea ovviamente della insomma dei contributi in utente Pascal Neis ha tanti servizi in realtà diversi vediamo se ritrovo al volo se cercate Resultma c'è il link in alto a destra ok comunque eccolo qua in ogni caso è qua ecco questa è la pagina principale di Pascal Neis dove vedete tutti i servizi che offre qualcuno ve l'abbiamo fatto vedere o prima o dopo le statistiche eccetera eccetera quindi questi li lasciamo a voi perché ci vorrebbe troppo tempo per farveli vedere direi che con questo ho finito sì quindi siamo pronti per un po' in ritardo sulla tabella di marcia ma direi che possiamo passare alle domande se ce ne sono altrimenti ce ne era qualcuna Marco sì te riassumo un attimo c'era una su Tasking Manager dopo eventualmente se qualcun altro può correggere intervenire magari può anche parlare che chiedeva come si fa a mappare zone contigue tra quadrati cioè solitamente se c'è una strada un fiume che sborda un quadrato che potrebbe essere mappato da un altro qual è la regola qual è il consiglio ho imparato anch'io l'altro giorno beh un'ottima domanda allora diciamo che l'idea è non si mappa il di fuori del quadrato però se c'è un edificio o una strada a metà chiaramente si disegna tutto l'edificio tutta la strada non si taglia l'edificio a metà bisogna proprio essere sfortunati per cui la persona che sta mappando accanto stia disegnando nello stesso momento lo stesso edificio lì c'è un conflitto nel senso che allora in questo caso non ci sarebbe un conflitto ci sarebbero due edifici sovrapposti supponiamo se entrambi fanno la stessa cosa è chiaro che se io faccio un edificio poi magari salvo le mie modifiche un eventuale utente che apre i dati di OpenStreetMap un secondo dopo la mia modifica vede già il mio edificio quindi cioè il tasking manager non sostituisce OpenStreetMap nel senso che io sto comunque contribuendo a OpenStreetMap posso comunque mappare dove voglio l'idea dei quadratini è proprio per limitare la mia attività dentro lì quindi nel caso di una strada quello che farei io è disegnare la strada un po' oltre il confine e fermarmi lì così che un altro che mappa nel quadratino adiacente inizierà a mappare la prosecuzione della mia strada dal punto finale che io ho messo quindi diciamo salvare spesso potrebbe essere comunque una cosa utile aggiungo una cosa Marco che non avevo mai fatto ma nella durante il compleanno di OpenStreet ma c'erano i mappatori delle Nazioni Unite che ha fatto vedere come mappano loro qualcuno diceva io mi fermo al confine e nel nodo finale che è uno dei tag che si può aggiungere si mette un fix me che è un tag che segnala che c'è qualcosa da guardare a un altro utente in cui dice strada non finita o qualcosa del genere ecco questo può essere un segnale poi c'era una domanda dopo ci fermiamo se si possono ricavare modelli 3D degli edifici presenti o la mesh del terreno qui hai risposto parzialmente in generale però insomma specifica cosa c'è o non c'è in OpenStreetMap sì come dicevo prima allora i dati di OpenStreetMap sono molto ricchi quello che si può fare è inserire come tag l'altezza di un edificio se la si conosce l'informazione tipicamente non la si conosce a meno che uno veramente abbia sotto mano il progetto oppure il numero di piani dell'edificio il numero di piani dell'edificio è un'informazione molto attendibile per chi vuole usare i dati di OpenStreetMap per per esempio creare dei modelli di consumo energetico degli edifici posso sempre citare questo esempio che è stato uno forse dei più belli un paio di anni fa a un convegno di OpenStreetMap un ragazzo ha parlato proprio nella sessione accademica di un'applicazione di ricerca che usava i modelli di OpenStreetMap per fare i dati di OpenStreetMap per fare modelli proprio di consumo energetico e ha detto che appunto i dati sul numero di piani chiaramente sono dati importantissimi quindi questo è bello non in quanto tale ma più per astrarre un po' la conclusione che è tipica dell'informazione geografica volontaria che tante volte si contribuiscono dei dati senza sapere senza avere proprio la minima idea di come questi dati saranno poi utilizzati da altri in futuro quindi è spesso senza sapere veramente quanto possono far bene questi dati e il numero di piani degli edifici è un qualcosa che tutti possono fare perché si vede dalle foto perché tutti conoscono quanti piani ha la propria casa la propria scuola il proprio edificio dove lavorano insomma questo è quanto ovviamente quello che uno può fare con i dati di OpenStreetMap è libero cioè il database contiene quello ci sono degli studi delle applicazioni di ricerca che mettono insieme immagini satellitari dati di OpenStreetMap immagini SAR e poi costruiscono qualcosa di molto più complesso però non mi addentrerei in discorsi più difficili adesso diciamo che le applicazioni sono infinite perché il database è molto ricco e ovviamente lo potete combinare con qualsiasi altra informazione insomma che volete sul 3D aggiungo che ci sono dei tag che rientrano in un modello semplificato 3D in cui per esempio si può mettere un tag che descrive che tipo di tetto c'è se ha due falde se ha una se è lungo se è trasversale per esempio per arricchire le informazioni che possono essere visualizzate ad esempio da quegli edito 3D che hai fatto vedere tu Marco e un'altra chiede se è possibile importare shapefiles sì assolutamente in JOSM in JOSM c'è vediamo se riesco a aprirlo c'è credo dal menu file apri mi ricordo che c'è anche un plugin open data forse che estende i formati sì diciamo c'è un plugin open data per fare gli import però in generale da qui si possono credo aprire tutti i tipi di file possibili e immaginabili tant'è vero che spesso JOSM viene accusato da persone che alla fine non vogliono importare in open stream ma vogliono solo usarlo per giocare con i dati o per disegnare insomma pensatelo proprio come un software che ovviamente è nato per open stream ma però è molto flessibile potete importare tracce gps chiaramente qua dentro e dati di credo legga quasi tutti i formati alla fine supportati da GDAL immagino che è la libreria classica rispondo all'ultima domanda che fa Diego se gli edifici possono essere esportati come shapefile probabilmente ne parliamo diciamo dopo nella sessione sull'export o riuso dei dati e non so facciamo quella pausa che ci eravamo dati siamo in ritardo probabilmente di una decina di minuti ma dopo compensiamo per chiudere comunque l'orario credo no Marco? Sì sì va benissimo facciamo un dieci minuti di pausa ci troviamo alle cinque e cinque e se ci sono delle domande magari al volo se qualcuno vuole qualche altra cosa senza bloccare delle domande veloci Paolo chiedo anche a te se una pausa così può andare sì sì va benissimo rimane tutto aperto giusto? Sì lasciamo aperto interrompiamo un attimo la registrazione e allora se siete d'accordo direi per le cinque e cinque riprendiamo il webinar nel frattempo grazie davvero per questa veramente interessante prima parte ok a tra pochissimo allora mi rifaccio vedere Paolo ecco tu quando vuoi riniziare la registrazione direi che possiamo riprendere la registrazione è stata avviata quindi quando perfetto quando vuoi grazie mille grazie a te allora prima di riniziare con le slide siamo arrivati no qua c'è qua siamo stiamo facendo spoiler con l'estrazione download dei dati avevo visto una domanda su l'inserimento di civici se si può fare un esempio al volo allora intanto per come succede dappertutto in tutti i casi il riferimento è il wiki per informazioni sui civici forse Marco non l'aveva detto ma per ogni pagina del un attimo che posso anche condividere lo schermo ecco vedete la pagina sì per ogni elemento da inserire esiste una pagina sulla wiki di open street map e in questo caso ci sono informazioni relativi al tag add address e quindi c'è la descrizione di come va inserito un indirizzo ci sono delle specificità nazionali e quello che mi premeva dire è che dove presenti guardate se ci sono delle traduzioni anche in italiano il riferimento anche per il wiki è l'inglese cioè il default e le informazioni aggiornate dovrebbero essere in inglese nelle varie lingue ci dovrebbe essere una traduzione e eventualmente delle specificità nazionali quindi per quanto riguarda l'italiano andate a vedere cos'è scritto nella descrizione italiana bisogna il numero civico si inserisce con il tag add due punti house number e molto semplicemente faccio un esempio a caso ma vediamo se lo vedo ecco qua qui siamo in una zona di di Padova se vado in edit sull'editor id vedete che i civici sono dei punti dei nodi scusate con dei tag che inizia con add questi sono il minimo la città il codice postale la via e il numero quindi si inserisce un nodo lì dove solitamente questa è la regola quantomeno in Italia non è così in tutto il mondo lì dove c'è la targhetta assegnata in questo caso di solito è sul bordo dell'edificio o sull'ingresso del giardino dove ci sono delle case singole qui a Padova ci sono i portici quindi vedete che sono in corrispondenza dell'interno cioè c'è il portico l'indirizzo è giustamente un po' sotto il tetto e quindi va messo lì dove c'è l'ingresso o la targhetta che segnala il numero civico vi aggiungo questa informazione faccio un attimo uno switch anche sul eccolo qui non so se puoi copiare Marco copiare l'indirizzo in chat questo è un tool sviluppato su un strumento già esistente ma customizzato da un utente italiano Naposm per aggiungere un indirizzo superstript in modo semplificato quindi questa è la modalità più semplice per aggiungere un indirizzo in realtà vedete abbastanza non lo faccio nel dettaglio ma è abbastanza basilare questo in realtà aggiunge una nota che permette a un mappatore più esperto di aggiungere l'indirizzo lì dove serve quindi si zooma dove interessa si può se si ha il posizionamento è utile anche al cellulare si attiva si dice localizzami inserisce un punto e poi si inseriscono i dettagli si invia e un mappatore esperto potrà inserirlo correttamente altrimenti come ho fatto a vedere prima si aggiunge un nodo lì dove si sa che esiste la targhetta del civico e tornando alle slide adesso parliamo passiamo da come contribuire quindi inserire informazioni in OpenStreetMap nel database a come tirarle fuori la potenza di OpenStreetMap al contrario per esempio di Google Maps è che possiamo tirar fuori quello che abbiamo inserito o che hanno inserito altri e questa permette tanti riutilizzi per tutti i gusti per tante tante possibilità di letto di piacere e anche di business o commerciali la cosa più semplice che si può fare è partire come si fa quasi con tutto dal sito OpenStreetMap.org qui è raccontato adesso ve lo faccio vedere su il portale OpenStreetMap.org vi trovate in qualche punto del mondo lo zoomate lì dove vi interessa e c'è un tasto export o esporta se avete l'interfaccia in italiano che vi apre un pannello sulla sinistra come vedete vi dice esporta e questo esporterà il contenuto della pagina web lì dove avete zoomato oppure potete selezionare manualmente un'area diversa in questo caso rettangolare o potete spostarla e qui potete fare un export direttamente di questa area dei dati di tutte le informazioni mappate nel database in questa area e già ci sono degli altri suggerimenti di scaricare i dati che sono quelli che vi farò vedere dopo quindi con un export qui vi chiederà di salvare un file .osm quindi un file diciamo testuale con una modalità specifica da me si scarica sul download io ho aperto già QGIS solo per farvi vedere che questo mapp.osm viene riconosciuto da QGIS lo spacchetta nelle varie geometrie classiche del mondo GIS quindi linee multilinee poligoni altre cose punti e punti adesso lo mettiamo un altro sistema eccolo qui ha fatto l'importazione in QGIS delle informazioni che hanno visualizzate in quel quadratino come vedete se un poligono una linea o una relazione si estende oltre in realtà OpenStreetMap tutti i tool per me non tagliano l'elemento ma se c'è un elemento che continua lo portano all'interno e anche se esce dal quadrato di download una cosa forse che non è così intuitiva almeno io non l'avevo trovata così intuitiva quando la cercavo è che per esportare un'immagine della mappa c'è questo tasto Share o condividi l'immagine che sia nel quale potete esportare l'immagine potete anche qui definire un'area specifica e avete un PNG potete esportarla anche a una scala specifica e fate download dell'immagine ricordatevi se le utilizzate da altre parti che dovete aggiungere pubblicazioni o report eccetera la dicitura OpenStreetMap Contributor che c'è sulla pagina di Copyright che trovate sempre qui su opestreet.org c'è questa pagina Copyright che vi ricorda cosa dovete fare come citare le mappe o i dati che utilizzate da OpenStreetMap avanzando un po' qui c'è una slide appunto che faceva vedere i passi successivi che vi ho mostrato live ci sono modalità molto più ampie di scaricamento e il planet è quella più ampia possibile nel senso che è possibile scaricare tutto il mondo in un dato momento tutto insieme tutto il dataset della Terra in un unico file lo trovate a quegli indirizzi planet.openstreet.org occhio che sono centinaio di giga in realtà come XML ci sono vari formati o in file compresso sono 56 gigabyte quindi sappiate che avrete una una certa difficoltà a scaricarlo e sono formati che poi devono essere utilizzati non possono essere utilizzati facilmente importati trascinati come ho fatto prima in un GIS perché richiedono sia un'analisi di un certo tipo un'estrazione delle informazioni perché sennò si pianta tutto non è possibile gestirli facilmente ma non solo è possibile scaricare tutto il mondo in un file unico a una certa data quindi vedete che ci sono questa è una scaricata ieri sera e ci sono tutti alcuni giorni precedenti è possibile scaricare tutto il mondo e tutta la storia da adesso fino all'inizio quindi scaricate tutta la storia di OpenStreetMap in un unico file e questo si chiama l'history full history ed è un un bel un bel masso di 92 gigabyte di informazioni attualmente ovviamente è in continua crescita perché si continuano a inserire informazioni e dettagli in OpenStreetMap quindi questo è il top però è un po' difficile da maneggiare se si è interessati a cose più specifiche geograficamente Geofabric è il riferimento è una dita che fa anche questo tipo di servizio che è molto utile perché fa degli strati predefiniti a livello nazionale o subnazionale in formati relativi a OpenStreetMap o anche semplificati più standard come gli shapefile e guardiamo un attimo come l'interfaccia è molto semplice c'è un contesto geografico c'è una lista di continenti in cui è separato l'estratto si può scaricare tutta l'Europa e sono 22 giga per esempio qui ho già un formato compresso a questa scala non si può scaricare in formato shape se si clicca sull'Europa ci sono tutti gli stati che fanno parte quindi per l'Italia c'è un file compresso in formato da un giga e mezzo e non c'è lo shapefile e vedete qua sopra ci sono delle altre informazioni quindi si può scaricare in formato compresso e in altri formati ausiliari diciamo così per scaricare i metadati tutta la complessità dell'informazione quindi compreso l'utente la versione dell'informazione eccetera bisogna essere logati questa è una versione semplificata che contiene tutti gli elementi geometrici e tutti i tag espliciti non le informazioni dell'utente delle versioni di ogni elemento quindi però può essere scaricata con tutti i metadati accessori se si va più nel dettaglio si arriva fino se clicca su Italia si hanno delle sottoregioni che possono essere scaricate per esempio qua a nord-est in pdf formato openstreet ma compresso e anche in shapefile zippato quindi in questo caso si può scaricarle a nord-est avete visto quali sono le informazioni e quindi è una modalità semplice e maneggiabile alcune centinaia di mega per scaricare informazioni tutto quello che c'è attualmente in quell'area passando a un'altra modalità un po' più avanzata ci sono dei servizi che permettono di personalizzare quello che si vuole estrarre quindi non sono predefiniti si può decidere di definire una zona specifica quindi per esempio questo OSMAX permette degli estratti personalizzati anche dei formati ulteriori come il geopackage quindi per esempio vi faccio vedere molto velocemente che è possibile estrarre degli estratti già predefiniti magari anche propri oppure definirne di nuovi quindi si può definire una zona e digitalizzarla ho sbagliato perché se qua c'è una c'è la finestra di zoom che non mi permette di fare ecco qua è possibile ecco adesso faccio refresh perché mi si è bloccato digitalizzare una zona specifica scusate un quadrato e scaricherà questo quadrato e non la provincia di Rovigo o l'intero Veneto quindi si può andare più nel dettaglio e selezionare scegliere in formato geodatabase shapefile geopackage specialite quindi andare a definire delle cose più specifiche così come si possono salvare degli export io mi ero fatto delle prove in un comune della provincia di Padova e quindi scaricarsene magari in tempi successivi una cosa ancora più raffinata è quello che fa un altro dei tool sviluppati all'interno di HOT questo Humanitarian Open Street Map Team che ha sviluppato anche Tasking Manager con cui avete fatto il test prima con Marcom per l'editing questo tool permette non solo di personalizzare degli estratti geograficamente e di esportare in vari formati ma anche di selezionare alcune cose sul contenuto quindi ci sono dei passi qui su create potete creare un'estrazione anche qui definire un box qui ci sono definire un box in una certa area non so che area sia bene dargli un nome scegliere il formato per esempio geopackage e nel terzo passaggio selezionare anche la tipologia cioè voglio solo gli edifici e per esempio natural gli elementi naturali come foreste o cose simili e scarico solo questo quindi fa un filtro anche sui tag che è una cosa che gli altri invece non permettevano di fare scarichi tutto quello che c'è all'interno di un'area a questo punto si crea un export non sto a dettagliare tutte le specificità è una cosa che se soprattutto chiedete delle aree grandi mette in coda alla all'export e quindi dovete aspettare un po' prima che venga prodotto questo file che comunque ecco vedete in questo caso è stato già prodotto è molto leggero è un job package faccio solo vedere che una volta salvato anche questo molto facilmente lo devo estrarre perché era uno zip QGIS trascinandolo dentro sto andando molto velocemente su QGIS perché non voglio fare una lezione di utilizzo di QGIS ma riconoscere le varie modalità punti, linee, poligoni e è scaricato qui probabilmente c'è una land use molto molto grossa i poligoni relativi agli edifici e a vediamo cos'è questo è la pianura padana ok insomma occupa molto spazio perché è un po' ingombrante siamo proprio a cavallo dell'area della pianura padana ma ci sono tutti gli edifici e degli elementi puntuali che erano erano stati selezionati nel filtro tematico che avevamo utilizzato sull'export quindi è una modalità molto agile per analizzare delle aree piccole e filtrare anche con dei raggruppamenti interessanti scopi specifici che possono interessare all'utente ancora più nel dettaglio ecco questa era una seconda slide che specificava quello che abbiamo già visto ecco questo è un altro strumento che è stato sviluppato è in corso di sviluppo e a breve di pubblicazione sempre finanziato da Wikimedia Italia che permette di avere degli estratti specifici customizzati a livello comunale provinciale comunale per l'Italia esplicitamente quindi avete visto che su Geofabrik si arrivava al nord-est negli altri tool si potevano avere delle customizzazioni qui se uno è interessato a un comune una provincia una regione è possibile sarà possibile a breve l'estrazione download conformati con alcune modalità fino al livello comunale quindi per analisi di dettaglio sarà una bella soluzione che la comunità italiana ha riattivato perché esisteva una cosa simile prima però ci vuole anche bisogna mantenere poi le infrastrutture e Wikimedia in questo caso è venuta in aiuto alla comunità poi esiste la modalità più avanzata che è quella di interrogare il database di OpenStreetMap con delle query con delle interrogazioni personalizzate totalmente quindi è una modalità di accedere in lettura al database direttamente ovviamente sono delle API con delle regole e OverpassTurb è uno strumento che dopo vedremo per farlo comunque in modo semplificato con delle query che possono essere comprensibili anche all'umano fino a un certo punto se non si complicano troppo ulteriore passaggio dopo faremo un esercizio proprio con questo è un plugin per QGIS si chiama QuickOSN vi vedete il link e se non l'avete già fatto no perché non era nell'istruzione iniziale se avete QGIS potete scaricarlo è comunque leggero potete scaricarlo adesso e serve per estrarre utilizzando le API quindi queste richieste dirette a database di OpenStreetMap nel modo più completo e personalizzato possibile e adesso io non mi ricordo quanto fuori sono col tempo Marco non so se mi dai una mano a capire penso che siamo un 5 minuti ritardo dammi un attimo che te lo dico per andare a fare un esercizio in QGIS su l'estrazione di dati siamo praticamente perfetti Ale va bene abbiamo recuperato allora quindi per chi di voi aveva già magari conosce un po' QGIS o l'ha scaricato e vuole provare a seguire un po' al volo ripeto non possiamo fare un tutorial sull'utilizzo di QGIS ma dando per scontata una certa conoscenza del software se qualcuno vuole seguire e non l'ha mai utilizzato facciamo questi primi passi cioè l'installazione del plugin Quick OSM l'installazione di Quick Map Services che è un altro plugin che permette di visualizzare delle mappe di sfondo compreso OpenStreetMap e poi andiamo a zoomare su un'area specifica quindi io lo farei live insieme a voi io sono in QGIS ho già installato questi plugin però per chi non lo sapesse c'è il menu specifico plugin che permette di installare o gestire plugin in QGIS che è uno degli elementi molto potenti che ha OPS QGIS si chiama Quick OSM con la K magari io l'ho già installato eventualmente se no installatelo e il secondo è Quick Map Services e quando l'avete installato avrete un'iconcina qui e un menu web che non mi prende perché c'è il menu scusate eccolo qui quindi Quick Map Services lo trovate sotto il menu web e vi permette di avere una moltitudine di servizi di mappe di sfondo che possono essere attivate con i setting io ho attivato nei setting la possibilità su più servizi di avere dei pacchetti aggiuntivi quindi dovete fare questo passaggio per vedere tutti quelli che vedo anch'io tra cui c'è anche lo standard OpenStream per avere un riferimento e quindi viene fuori come un layer che vi dà un contesto areale e poi andiamo a utilizzare il plugin Quick OSM che è un'interfaccia semplificata appunto all'utilizzo di di query overpass quindi che vanno a chiedere le informazioni direttamente al database di OpenStream è quello che abbiamo fatto fino a qua quindi abbiamo zoomato abbiamo aperto e utilizzato i vari plugin attivato i due plugin e siamo su un'area ristretta quindi poniamo l'ipotesi di voler scaricare solamente gli edifici di una certa area gli edifici qui vi ho messo il link per capire l'avete già visto l'abbiamo già visto con Marco prima come si definiscono gli edifici ed è il tag la chiave è building con varie opzioni quella più generale che è utilizzata maggiormente è yes solitamente molti edifici vengono mappati primariamente con yes poi qualcuno se conosce la zona può modificare il valore quindi la la chiave building il valore è yes e si può impostare noi vogliamo scaricarla sull'area che zoomiamo nell'interfaccia di QGIS come si fa eccoci qui ce l'ho in inglese però penso che sia abbastanza intuitivo capire le funzionalità si inserisce la key che è building il valore cerchiamo solo quelli che hanno valore yes e qui c'è c'è varie modalità per definire la zona in cui in cui chiedere questa informazione intanto zoom un po' perché sennò eravamo un po' troppo distanti siamo sempre in centro a Padova ecco qui allora rifacciamo building yes dove nell'estensione della canvas quindi dell'interfaccia se no è possibile utilizzare anche un nome quindi a Milano a Padova e la chiamata andrà direttamente a cercare il boundary il confine mappato in open street ma come Padova Milano Polonia Veneto oppure si può scegliere l'estensione di un layer precaricato nell'interfaccia di QGIS quindi se uno ha un layer della zona di interesse può caricare quello e selezionarlo come elemento all'interno del quale andare a fare la richiesta in questo caso scegliamo quello più semplice che è l'interfaccia quindi facciamo lanciamo la query ha scaricato dice che sono stati caricati due layer perché due perché ha scaricato sia nodi che ways in questo caso poligoni e come vedete ha scaricato nell'area quadrata più o meno con quelli che sbordavano un po' che avevamo definito con lo zoom tutti gli edifici e i punti che non dovrebbero essere se ce n'è uno due tre sono definiti come ok erano nodi appartenenti al bordo dell'edificio e questi edifici hanno una loro tabella come succede sempre nei GIS di attributi scusate sono nella visualizzazione ecco qui qui c'è la tabella e c'è l'id in osmand in open street map il tipo di elemento quindi way il tag è il nome del campo e il valore è all'interno del record della riga quindi sono tutti perché li abbiamo chiesti apposta così building uguale yes in più alcuni avevano l'indirizzo o il numero civico altri probabilmente avevano altre informazioni storiche per esempio questo è l'orto botanico un edificio nell'orto botanico era villa immacolata che ha molte altre informazioni quindi è arricchita rispetto agli altri elementi che hanno solo magari building yes se lo selezioniamo andremo a vedere insomma è questo edificio qua vicino all'orto botanico quindi si scarica tutto quello tutte le informazioni che sono state mappate ovviamente le limitazioni di questo sistema eccolo qui qui c'è la visualizzazione degli edifici e quindi con gli attributi sono che si può lavorare un tag alla volta diciamo quindi per esempio un altro elemento che può essere utile in questo caso lineare sono i percorsi pedonali compresi i marciapiedi in questo caso il tag è con la chiave highway che identifica tutti gli elementi stradali e valore footway quindi pedonali facciamo la stessa cosa e guardiamo un po' di più allora mettiamo highway footway sempre nella canvas e vediamo scusate c'è un menu avanzato che permette volendo di limitare il download a certe primitive geometriche che sono magari voglio solo i nodi o solo le way o solo le relazioni o che l'output sia solo punti linee eccetera per limitare se nel caso ci sia l'esigenza di farlo in questo caso scarica tutto quello che c'è con i vari formati e rappresentazioni geometriche che sono rappresentati in open street map il parametro timeout deve essere aumentato quando la query è molto pesante quindi il server ha bisogno di più tempo quelli sono i secondi per rispondere se la query è troppo pesante e entro 25 secondi non risponde si blocca perché stiamo interrogando l'istanza del database quindi ha delle limitazioni non si può saturare la richiesta dell'API perché è condivisa diciamo in tutto il mondo performa abbastanza bene ma fino a un certo punto anche qui se facciamo girare la query interrogazione ha scaricato delle strade adesso spengo le idee di fondo sono i percorsi pedonali dell'orto botanico alcuni marciapiedi attorno al tratto della valle e i percorsi pedonali del tratto della valle sempre a pagona anche qui le informazioni della tabella attributi saranno ovviamente way highway sempre footway perché è quello che abbiamo chiesto in più ci sono informazioni sulla superficie se è pavimentata asfaltata o altro e lì dove ci sono altre informazioni per esempio la larghezza del percorso o quello che c'è se è un portico con una colonnata se è un attraversamento pedonale e via via a seconda di come è stato notato su OpenStreetMap eccoci qua le limitazioni che accennavo prima è che la richiesta rapida che è quella che vi ho fatto vedere la prima modalità ha un solo tag alla volta quindi la coppia key value bisogna andare su quella non si possono fare quali più complesse in questa modalità semplificata in realtà su richiesta possiamo anche scrivere o modificare la query di Overpass quindi le modalità di richiesta in realtà c'è una modalità molto più semplice senza sapere come modificare il codice che adesso vediamo ripasso qui solo per farvi vedere che dove siamo se rifacciamo la domanda su building e valore yes posso mostrare la query e quindi lui la esplicita nel linguaggio XML che è complesso non andiamo a mettere le mani qua ovviamente perché bisogna conoscere troppo e allora c'è la possibilità di andare su Overpass Turbo e c'è anche una scorciatoia da qui ed è un servizio che appunto è su overpass-turbo.eu che vi permette di fare delle query complesse anche complesse con degli aiuti adesso vi faccio vedere come e questo ve lo faccio vedere perché vi dà la completa libertà di estrarre ad OpenStreet ma qualunque cosa volete con delle query sia spaziali che tematiche molto avanzate scusate che faccio un attimo il punto eccoci qua Overpass Turbo a questa slide poi avrete il link per andarci c'è una modalità più complessa e una modalità semplificata che è tramite il wizard che assomiglia a quello che abbiamo fatto prima quindi di inserire la chiave il valore e in questo modo avremo una query che si autoforma qui ci sono le istruzioni sulla slide lo facciamo a mano questa è un'interfaccia quindi sulla sinistra ci sarà l'interrogazione sulla destra c'è la mappa funziona di default sull'area visualizzata e wizard è questo tasto poi ci sono molte altre cose dopo ne vediamo qualcuna che vi dice vi dà un suggerimento per esempio su come fare delle query è uguale a quella precedente se facciamo building lo scriviamo in questo caso uguale a yes che è esattamente la stessa cosa che abbiamo scritto nei due campi di QGIS se fai build costruisce la query e questa è una modalità standard se si fa run lo zoomo un po' fa la richiesta in quell'area in cui si è zoomato e quindi estrae le informazioni vedete che se vi allontanate sembrano tutti puntini perché è una semplificazione grafica però in realtà sono dei poligoni in questo caso qui in basso a destra vi dà un riassunto di quanti nodi quante way e quanti poligoni in questo caso di elemento geometrico vengono rappresentati quindi sono 200 edifici ciascuna di queste può essere cliccato e ha riferimento all'elemento di OpenStreet ma che può essere aperto indipendentemente sull'interfaccia di OpenStreetMap specifica quindi si può analizzare nel dettaglio ma senza andare troppo nel dettaglio qui cosa succede? questo vi ha permesso di scrivere la stessa query con un linguaggio specifico che si può CTRL-C copiare e qui incollare e far girare lui interpreta l'istruzione in modo corretto e quindi in QGIS ha scaricato le informazioni aspetta sono perso scusate qualche cosa aperta allora lascio un po' copiare dentro a QGIS ma faccio un passaggio ulteriore che avevo saltato la cosa importante la cosa potente è che le cose si possono complicare ma in modo semplice fino a un certo punto quindi per esempio si possono chiedere due cose chiediamo che la strada sia una highway footway sia un percorso perdonare generico ma non solo vogliamo che sia un marciapiede e i marciapiedi in OpenStreetman si taggano quindi si descrivono con due informazioni due tag highway footway e insieme deve esserci in contemporanea che tipo di footway che tipo di percorso perdonare sidewalk quindi marciapiede bisogna metterle entrambe e questo è possibile farlo su overpass turbo mentre con la query semplificata in QGIS non era possibile lo facciamo manualmente sempre da wizard highway uguale footway and footway uguale sidewalk adesso non sto vedendo la chat può darsi che abbiamo perso che ho perso un po' di gente con queste cose che sembrano molto tecniche ma vi voglio far vedere la potenzialità perché poi una volta portati in QGIS voi avete il vostro materiale le query le stiamo facendo su un'area piccolina si possono farle su tutta Italia o su aree ampie e si può andare a puntualizzare molto quello che si vuole definire quindi abbiamo due tag questa volta costruiamo la richiesta e lo costruisce nel modo giusto perché lo sa fare facciamo run e lui in questo caso seleziona solo quelli che sono mappati come marciapiedi quindi vedete che non non estrai i percorsi pedonali all'interno dell'orto botanico ma estrai solo i marciapiedi quindi quelli di fianco alle strade che siano portici o meno in questo caso oppure i gli attraversamenti pedonali che può essere interessante per alcune tipologie di indagini vi faccio vedere una cosa ulteriore vedete che c'è un link anche qui adesso lo clicco e vado direttamente alla pagina che mi mantiene l'estensione geografica e la query che avevo salvato quindi una volta che si costruisce una query si può salvarla con questo share e lui crea in automatico un link univoco che mi salva sia l'estensione geografica se voglio c'è l'opzione qui sia la query stessa quindi posso condividerla o salvarla per me stesso per rifarla o per condividerla con altri utenti per dire guarda cosa ho trovato oppure per farla in tempi successivi in questo caso quindi ho costruito una una richiesta che per gli attraversamenti pedonali chiedeva delle highway footway e un altro tipo di tag diverso che è specifico per gli attraversamenti che è footway di tipo crossing quindi attraversamento prima era footway uguale sidewalk per identificare i macciapiedi in questo caso è crossing per identificare gli attraversamenti pedonali faccio run e sembrano punti ma sono tutti trattini di strada che identificano i marciapiedi gli attraversamenti pedonali mappati come tali correttamente da alcuni utenti che fanno un lavoro in questo caso di dettaglio ecco qui da overpass turbo a cogis quell'istruzione che abbiamo costruito che si può costruire nel wizard può essere copiata all'interno del box ricerca nel plugin quindi se copio questa informazione attivo il mio plugin e direttamente senza passare per questa query semplificata copio la query overpass la lancio e ha scaricato si vedono poco perché ovviamente di default eccolo qui ha scaricato gli attraversamenti pedonali che hanno visibili non più nell'interfaccia occhio che si richiama si richiama l'interfaccia della query originale in questo caso quindi si costruisce su overpass si porta in cogis in questo caso quindi potete fare le vostre analisi su degli elementi puntuali faccio vedere qual è la potenza reale o comunque un esempio possibile si può fare molto di più questo è solo un esempio piccolo per esempio mi sono costruito un'interrogazione un po' fittizia ma con qualche senso per esempio estrarre i negozi che a Padova in tutta Padova hanno dei parcheggi per visabili a meno di 50 metri di distanza e che sono accessibili alle carrozzine uno che è esperto in GIS si fa dei buffer si fa delle interrogazioni specifiche delle query spaziali e le trova in questo caso si può fare tutto direttamente da da Overpass Turbo quindi interrogando il database di OpenStreetMap con una modalità abbastanza semplice diciamo e bisogna conoscere un po' di più il linguaggio dell'Overpass API però semplifico provo a dire dove a Padova e c'è questa modalità cercami in che area quella che è geocodificata in OpenStreetMap con il nome Padova cosa individua tutti i parcheggi per disabili e quindi queste parking space con un elemento che identifica se è specifico per disabili dove nell'area di prima quindi Padova e poi trova i negozi shop che hanno un tag esplicito di disponibilità di accessibilità per le carrozzine in un intorno di 50 metri questo fa tutto lui bisogna ovviamente sapere come costruire questa query ma ci sono delle guide per farlo e vedete io zoom in una zona piccolissima faccio run qui non vedo niente perché in realtà la query me la sta facendo su Padova non me la sta facendo qui perché è una modalità di dire fammi un'interrogazione a tutta Padova non ce ne sono tanti ma vedete che me l'ha fatta in tutto il comune di Padova e sono effettivamente dei negozi che hanno un parcheggio a 50 metri di distanza è un po' più esplicito ecco qui questa piazzetta è un'edicola in questo caso con dei parcheggi vicino e l'edicola probabilmente ha il tag accessibilità wheelchair yes ok quindi vedete che si può complicare molto e avere una potenzialità veramente elevata di estrarre tutte le informazioni per casi di uso specifici questi due slide sono molto importanti se qualcuno di voi ha voglia di approfondire questa modalità di lavoro e sono delle slide che ha presentato un mappatore per il sistema italiano al convegno OSMIT all'interno del FosfoG dell'anno scorso a Torino appena prima del blocco del lockdown e vi faccio vedere sono le varie presentazioni che sono state fatte eccole qua sono questi due link e uno vi faccio vedere perché sono veramente veramente belli nel senso che è un'introduzione molto fatta bene concettuale su cos'è Overpass API con molti esempi molto complessi perché si può fare veramente delle query complesse e poi l'altro file è una lista di esempi con il link diretto a come estrarre le informazioni quindi se qualcuno vuole approfondire questo mondo e qui è veramente una bella guida che è difficile da trovare anche in inglese allora aspettate un attimo ok allora io forse ho accelerato anche un po' troppo ma mi fermo un attimo per per chiedere se o in chat o se qualcuno vuole attivare adesso il microfono ci sono delle domande o delle curiosità so di aver corso abbastanza su cose forse che non sono così banali ma penso di aver fatto vedere un flusso di lavoro possibile che è potenzialmente interessante ecco ovviamente si può anche scaricarsi tutto il comune di Padova quando ci saranno gli strati italiani o tutta la regione Veneto o tutta l'Italia dai siti che vi ho fatto vedere prima però sarà un po' tutto mischiato quindi questa modalità è molto potente per fare delle analisi specifiche se uno vuole inquadrare generalmente l'informazione invece può anche scaricare i pacchetti che comprendono tutto mi chiedo un attimo a Marco o a Paolo se c'era qualche interazione o curiosità grazie Ale allora la chat è stata abbastanza silenziosa arriva una domanda proprio adesso quindi te la leggo in tempo reale con una query si potrebbe vedere in quali città ci sono le vie che si chiamano ad esempio via Giuseppe Garibaldi sì adesso adesso mi fregate ma la cosa non sono un drago ma per esempio in Wizard se voi avete highway scusate highway uguale qualsiasi cosa e questa è la modalità l'asterisco dopo uguale significa qualunque tipo di highway con e il nome penso che ci voglia Giuseppe c'è qualche mappatore qualche overpass esperto magari dopo mi correggerà allora non mi dà errore perché se ci fosse un errore me lo darebbe siccome a Padova c'è vediamo a largo perché me l'ha fatto sulla sulla sull'area inquadrata comunque sì nel senso se tu allarghi puoi fare delle query che comprendono anche varie città comunque proprio questa è la potenza sì forse ho sbagliato qualcosa non mi ricordo bene o c'era qualcosa forse Ale devi mettere via Giuseppe Garibaldi bravissimo le cose più banali sì assolutamente sì eccole qua poi eravamo sì Padova e siamo già fuori Padova qui è già Cadone che quindi è un altro comune quindi si possono estrarre facilmente come vedete sono vari tratti probabilmente perché sono spezzettati a seconda eccola qua via Giuseppe Garibaldi grazie Marco figurati c'è un'altra domanda che dice è case sensitive questo filtro sul nome ad esempio sì in realtà c'è la modalità anche per renderlo case insensitive perché adesso non lo so fare al volo ma c'è la modalità per dire trovami questa stringa senza considerare case maiuscole o minuscole grazie Ale arriva un'altra domanda potete mostrare come lanciare una chiamata diretta con posizione di un URL ad un servizio tipo VFS di OSM per richiedere dinamicamente un'estrazione di dati in formato OSM XML allora mi fermo a un certo punto rispondo fino a dove so OSM non fornisce VFS nel senso di servizi standard ODC il modo per interrogare sono le API di overpass e ha due modalità una è questa che stiamo utilizzando l'altra è quella diretta XML non ho mai fatto delle query di quel tipo ho sempre utilizzato dei servizi che semplificano la richiesta quindi una cosa che posso dire è che per esempio questa query ci si può fare varie cose questo non l'avevo fatto vedere prima si possono scaricare i dati quindi una modalità è quella di andare in QGIS quindi di avere direttamente in QGIS l'altra modalità è una volta visualizzate queste informazioni estratte le informazioni che mi interessano posso esportarle posso fare un download vedete con varie modalità come GeoJSON GPX del KML come dati OSM o dati direttamente dalla query API forse questa il link che vedete sotto è la cosa che assomiglia di più credo alla richiesta che è stata fatta oppure potete estrarre proprio la query che può essere riutilizzata in altri in altri casi non lo facciamo vedere oggi una cosa interessante che avevamo in mente eventualmente di fare vedere è come riutilizzare una query fatta con Overpass Turbo per visualizzare una mappa in UMAP casomai lo faccio vedere dopo alla fine perché ho un esempio che potrei far vedere nella quale c'è una query che è registrata quindi ogni volta che muovo la mappa su UMAP che è un servizio anche quello collegato a OpenStreetMap mi fa la query quindi fa quello probabilmente che chiedeva uno dei partecipanti però WFS oggi si compliant non è fornito per l'accesso standard so se vuoi aggiungere qualcosa a tu Marco sì se posso aggiungere c'è OpenStreetMap non ha appunto servizi WFS ma ha API di fatto ce ne sono allora due sono quelle più usate quella che stiamo vedendo qui è la Overpass API e Overpass Turbo è un front-end che usa l'Overpass API c'è poi la OSM API l'OpenStreetMap API che è quella che usano gli editor e consente di leggere e scrivere sul database quindi non è consigliata per fare query gigantesche però si può usare c'è tutta la documentazione online Overpass API invece è per leggere dal database quello che stiamo facendo adesso quindi per scaricare dati c'è in realtà anche una terza almeno una terza poi chiunque può creare la sua ma c'è una terza API che è quella creata dall'Università di Heidelberg recentemente qualche anno fa che è la OSM API magari la scrivo nella chat perché è un gioco di parole perché la pronuncia è adesso lo scrivo e faccio prima OSM che si pronuncia come OSM cioè stupenda e è un'API facilitata per chi deve fare analisi di grandi dati inclusa la storia quindi permette delle query un po' semplificate un po' mirate per così dire questo è un po' questo è quanto per diciamo in termini di chiamate come quella a cui si riferiva l'utente nella chat poi c'è una domanda a quando l'editing di OSM in QGIS? non lo so non è così così facile adattare ed è un impegno che forse non so se il gioco valga la candela nel senso che come hai visto OSM è talmente specializzato che un utente esperto penso che in OSM trova un ambiente veramente funzionale potrebbe avere il suo valore per carità perché poi in QGIS trovi 10.000 altre cose che possono essere sensate però forse per adesso credo che il suggerimento di avere un flusso di estrazione o di inserimento tramite strumenti specifici poi permette di tirar fuori quando serve l'informazione per per usarla in QGIS è una cosa che mi sono chiesto sempre anch'io ma probabilmente non c'è un caso d'uso veramente forte per far sì che qualcuno investa in questo si può fare sicuramente sì sono d'accordo con te io Ale ti chiedo un'ultima cosa se puoi far vedere da qui dall'interfaccia di Overpass Turbo come invece si possono scaricare i dati perché qui insomma i dati sono visualizzati ma se io volete scaricarli in locale questo può essere utile per chi non vuole poi usare QGIS per esempio sì sì mi ero fermato prima nel senso che quando si lancia una interrogazione e viene viene fuori il risultato questi sono dei dati che sono rappresentati in mappa c'è il tasto export che ha tre cose che si possono esportare la query quindi l'interrogazione specifica in varie modalità la mappa quindi puoi stare l'immagine PNG con rappresentate le geometrie o altre modalità e la parte che interessa in questo caso sono i dati quindi si può scaricare download e scarica un GeoJSON oppure un OSM data quindi se se si scarica come avevo fatto prima poi in QGIS tramite GDAL riconosce riconosce le informazioni e credo è estratto cioè sono le stesse cose che vediamo che vediamo nell'interfaccia di di Overpass quindi questa è una modalità semplice per estrarre senza passare per per QGIS grazie Ale non ci sono altre domande ovviamente io invito sempre tutti se avete domande se le avrete dopo di scriverle nella chat quindi secondo me possiamo andare all'ultima parte abbiamo ancora una mezz'oretta quindi siamo perfettamente nei tempi benissimo e qui ci sono altre cose vedete per impostarle diversamente una cosa forse che può essere utile c'è anche un'interfaccia dati che visualizza i dati strutturati secondo la modalità osm oltre che mappa questo può essere utile perché nelle query in realtà uno può fare anche calcoli quindi fare un summary fare dei calcoli quanti nodi con questi tag sono compresi in questa zona e quindi ti fai sputtare fuori una tabellina con già le somme fatte quindi può essere utilizzata anche per fare delle statistiche informazioni ok ultima parte che andiamo sempre un po' più avanti nell'interazione con i dati e facciamo anche un passo verso come la comunità e i mappatori interagiscono tra di loro o interagiscono con la mappa stessa non solo facendo un primo edit oppure estraendo le informazioni ma agendo sulla mappa e controllandone la qualità migliorandola pulendo le cose che vanno pulite o interagendo con gli utenti che mappano in modo scorretto o che sono da guidare quindi ci sono vari strumenti per controllare la qualità vedete lì un link alla pagina wiki che come sempre vi consiglio se siete interessati di approfondire di scrivere nella barra di ricerca cosa volete chiedere e ci saranno molte pagine che danno degli stimoli quindi ci sono in OpenStreetMap vari strumenti per segnalare cose che non vanno per individuare gli errori cioè ci sono dei strumenti e dopo ne vediamo alcuni che hanno delle modalità automatiche per segnalare potenziali errori strumenti di visualizzazione delle informazioni in modo da vedere cosa è stato modificato e da chi e poi andare a vedere cosa può interessare da un punto di vista di analisi della qualità di monitoraggio di assistenza di statistiche sui tag e tutte queste informazioni danno una panoramica agli utenti se vogliamo un po' più esperti o che si vogliono prendere cura di un tema di un argomento o di una zona geografica e oggi abbiamo aggiunto anche questa seconda colonna che spiega un po' cosa succede in realtà uno può mappare anche per se stesso quindi a me piace mappare che ne so cestini uno se li mappa e gli vedi quello va in giro a mappare i cestini in alcuni casi invece curare una zona o un tema significa andare a vedere anche in altre aree cosa sta succedendo e se si rispettano le regole che ci si è dati e quindi una prima cosa che succede quando si individuano dei problemi sulla mappa è commentare il change set il change set come diceva Marco prima è la modifica quando si fa salva o carica in OpenStreetMap dai vari editor si aggiunge un commento chi edita e chi controlla o chi arriva lì per avere maggiori informazioni può aggiungere dei commenti dopo lo vediamo per dire secondo me qui hai sbagliato oppure come mai hai fatto questo quindi c'è un dialogo anche su OpenStreetMap sulle modifiche a database eventualmente si possono anche mandare dei massaggi diretti all'interno quindi utilizzando l'utente OpenStreetMap dopo vi faccio vedere ci sono c'è una specie di mail interna una inbox e un outbox in cui si possono mandare messaggi a utenti senza conoscere l'email quindi diciamo è totalmente anonimo se uno vuole interpretarlo in questo modo e quando cioè quindi si può dialogare in questo modo trasparente pubblico sui chainset o sulle modifiche specifiche e quando c'è un disaccordo che quindi non ci si riesce a mettere d'accordo ci sono delle cose che non funzionano è sempre consigliabile discutere pubblicamente con la comunità di solito quella locale dove si va ad agire che ha le sue regole quindi ci sono dei mailing list nazionali o anche regionali e adesso ci sono sempre più anche i canali Telegram che aiutano a una prima scrematura a un primo dialogo però la mailing list è la zona più ufficiale che abbiamo per discutere poi ci sono c'è l'Uper Street Map Foundation con un gruppo specifico che si occupa di rimere le cose un po' più gravi e mi raccomando ecco sempre fare riferimento sia prima quindi quando uno vuole inserire qualcosa sia poi per valutare cosa hanno fatto gli altri per valutare la qualità di informazioni al wiki che si cerca di tenere sempre aggiornato adesso facciamo vedere alcuni esempi di tool generalisti ma specializzati comunque nelle loro funzionalità per segnalare quindi poter correggere errori sui tag o sulla geometria topologia io adesso d'ora comincio a essere tag un po' per tutti mi concentro magari su un paio di questi quattro che ho segnalato Osmose mi piace molto è molto completo secondo me ed ha un esempio di quello che dei filtri avanzati permettono di fare come analisi sulla qualità delle informazioni allora vedete qui molto semplicemente avete un pannello sulla destra che vi fa vedere cioè un'introduzione che vi spiega che cos'è e con anche delle pagine wiki specifiche dei layer per avere lo sfondo questo è lo sfondo ufficiale per cambiare lo sfondo della mappa e la cosa interessante specifica è questa sulla sinistra qui vedete una serie di layer diciamo così sono degli strati di query che evidenziano problemi su argomenti specifici vedete sono raggruppati in categorie qui ci sono delle cose evidenziate sulla struttura dell'informazione sulla mancanza di alcuni tag per esempio se se mancano degli elementi one way di dove dovrebbero esserci o se ci sono delle incongruenze dal punto di vista dei tag se ci sono dei tag sbagliati quindi che non rientrano nella categorizzazione formale di open street ma lo individua autonomamente automaticamente se ci sono dei tag in più che non dovrebbero esserci in un elemento adesso vediamo forse alcuni esempi se il nome dei tag non esiste perché magari c'è un errore di battitura qualcuno l'ha inserito a mano e via via quindi ci sono un sacco di informazioni che un utente dice ok vediamo qui in questa zona cosa c'è che non va adesso vado proprio a caso perché in questo caso c'è una vedi è in inglese c'è un percorso probabilmente è un percorso pedonale che arriva alla fine e muore lì quindi dice ok se si collette qualcosa connettilo join oppure aggiungi un'informazione che qui è una strada che finisce potrebbe essere anche una mappatura non terminata però è un elemento che riesci ad evidenziare così come qui ecco c'è ci sono anche delle cose di dettaglio qui c'è un nome che è in inglese senza un nome di default quindi per esempio il name si può aggiungere il name uguale qualcosa ed è il nome specifico e poi si possono anche mettere delle traduzioni diciamo name due punti it allora si mette in italiano in questo caso dice manca il nome originale c'è solo quello in inglese così come altre informazioni che qui manca informazione c'è one way ma non si capisce ma non c'è il tag principale che è highway quindi sono tutte cose di dettaglio che vanno un po' a spaccare il capello e non si vedono nella mappa generale che però permettono di pulire l'informazione di fare un controllo di dettaglio per esempio qui dice che c'è un pezzo di strada che non accede a niente o manca l'ingresso del parcheggio quindi degli editi automatici che veramente riescono a individuare delle criticità magari alcune sono criticità altre sono solamente dei tag degli elementi mappati male e qui vedete che potete segnalare una cosa che per voi cioè conoscete quella cosa e dite ok è un falso positivo quindi viene diciamo cancellato o si suggerisce di cancellarlo dalla questa analisi è corretto prima lo correggete poi qua cliccate che è corretto così pian piano si pulisce e si migliora l'area e qui avete in realtà il link per poterli editare nella nei vostri edit preferiti quindi vi dice ok questo è il problema andiamo ad editare su JOSMA eccolo qui vi porta qui e vi permette poi di andare a ad aggiungere le informazioni che volete perché conoscete l'area perché avete fatto un survey correggete fate l'upload e e poi dite ok corretto quindi è un strumento molto potente di un'analisi di dettaglio per qualcuno che ovviamente vuole approfondire l'argomento keep write è abbastanza simile concettualmente anche praticamente quindi ve lo lascio come riferimento ma lo salto vi faccio vedere questi due che sono un po' diversi nel senso che non sono che non guardano i tag o gli errori topologici ma fanno un'analisi dei change set cioè vi permettono di dire ok io abito abito qui in questa zona fammi vedere non è vero ma insomma fammi vedere cos'è successo negli ultimi 14 giorni fammi vedere gli ultimi tre giorni chi ha editato qua attorno ma nessuno ok allora sono a posto ok qui negli ultimi tre giorni ha editato qualcuno cosa ha fatto poi ci sono delle piccole mattonelle quindi fa un'analisi di cosa è successo in ciascun pezzo della mappa e si può vedere quando chi e cosa ha fatto ha editato e in questo caso vediamo un utente che conosciamo insomma che è abbastanza conosciuto nella zona del Veneto ha fatto degli edit e questo vi permette di valutare cosa è stato aggiunto cosa è stato toccato come geometria e cosa è stato modificato quindi è stato modificato il tagging anche qui si può andare a analizzare nel dettaglio cosa è successo in una zona che un mappatore dice ok qui la conosco bene me la segno e voglio che sia tutto a posto o voglio contribuire a migliorarla un'altra cosa un'altra cosa molto potente sviluppata questa da Mabox si chiama Osmcha e Osm changes o quindi analizza i cambiamenti è molto simile all'altra però non parte da un'interfaccia grafica che ti fa vedere il territorio ma parte da alcuni filtri quindi in questo caso bisogna essere logati come utente OpenStreetMap e c'è la possibilità vi faccio vedere molto velocemente di aggiungere vari filtri vi faccio vedere i due tre principali un filtro è quello temporale fammi vedere tutte le modifiche dal giorno la settimana scorsa da venerdì scorso a e posso anche guardare solo un intervallo nel passato lo facciamo da 5 febbraio ad adesso dove posso selezionare un'area quindi la seleziono come uno dei vari filtri possibili e posso disegnare un poligono e in questo caso posso fare Apply quindi metto questi due filtri faccio Apply e lui mi elenca 38 change set che sono successi da 5 febbraio e che hanno toccato questa zona il problema qual è quindi adesso aggiungo il terzo filtro che possono essere stati dei filtri che succedono in OpenStreet molto molto ampi che hanno toccato un'area vasta magari che ha toccato elementi su tutto il mondo quindi non sono in realtà specifici non sono accaduti dentro quel quel adesso vediamo se ne trovo uno eccolo qua questo che ha aggiunto un nome cinese quindi diciamo di default se non si aggiungono altri filtri potrebbe essere che qualcuno che ha toccato degli elementi che hanno un bounding box che passa per quella zona eccolo qui questo per esempio è uno di quelli adesso non so cosa abbia fatto questo utente ma ha modificato qualcosa che magari in posti diversi del mondo e ci ricade dentro anche Padova però non è quello che vogliamo vedere allora da sapere è oltre alla data alla zona geografica di interesse c'è questo bounding box size bound che qua compare vedete filtra e cambiamenti che hanno un'area più piccola di x volte l'area che è selezionato cosa vuol dire se mettiamo due qua andrà a identificare dei change set delle modifiche che non hanno toccato un'area che va oltre il doppio dell'area di Padova diciamo quindi se uno ha toccato qualcosa in Germania e in Africa lo taglia fuori infatti invece delle 38 sono solo 8 e queste sono cose che sono accadute proprio in quell'area là o nei immediati dintorni quindi in questo caso abbiamo un'interfaccia ancora più ricca che vi fa vedere questa persona ha aggiunto dei numeri civici su delle case e vedete che sono state toccate le case ma ci sono dei punti nuovi aggiunti con l'indirizzo e da qui si possono esplorare si possono aprire questi punti specifici in vari editor si possono vedere dei dettagli sul numero degli elementi aggiunti elementi modificati in arancione o cancellati eventualmente in rosso ma ancora di più si aggancia a quell'elemento di dialogo con la comunità per esempio in questo tasto vi dice chi è l'utente e con alcuni link per approfondire questo è quello che aveva fatto vedere Marco quindi how do you contribute e è quell'utente lì questo è un utente nuovo che probabilmente si è registrato da poco ha fatto una modifica in tutta la sua vita ieri e ha fatto questo in id quindi può darsi che abbia fatto qualche errore e quindi questa è un'informazione importante per capire che tipo di utente ha fatto le modifiche in realtà ha fatto delle modifiche che sembrano corrette oppure si può andare direttamente allora se se questo utente in realtà ha fatto qualcosa che non va lo si può segnalare o si possono chiedere informazioni ulteriori infatti si può avviare una discussione quindi scrivi un commento e questo commento andrà direttamente sul chainset specifico dell'utente quindi questo è il chainset qua sopra sto bombardando le informazioni che forse non approfondirete mai però è fondamentale questo chainset eccolo qua significa significa che fa vedere dove è agito la modifica questa persona ha aggiunto il commento indirizzi stradali e informazioni sulla scuola quindi ha fatto un buon commento descrittivo ha utilizzato id e qui c'è lo spazio per commentare cioè se io commento qua e dico come mai hai fatto questo magari guarda questa pagina perché descrive meglio quello che dovresti fare si può fare direttamente da qua oppure si può fare da questa interfaccia oggi si inizia quel dialogo che dicevo prima ancora di più posso eccolo qui per utenti problematici diciamo si può dire ok questo me lo aggiungo alla mia watchlist alla mia lista degli utenti da tenere d'occhio sia perché magari sembra che non lavorino bene sia invece perché ti interessano perché magari mappano cose che a te interessano e quindi possono essere utili per contattarli per imitare le loro modalità di mapping oppure puoi anche selezionare degli utenti aggiungere una lista di quelli ok questi ci credo non voglio neanche sapere cosa fanno magari fanno un sacco di cose quindi li taglio fuori perché sono i miei utenti considerati i saggi e quindi posso filtrarli via quindi mi toglie gli utenti che non devo controllare cosa stanno facendo e poi puoi anche dare dei feedback positivi o negativi al tipo di di mappatura di di edit questo per dire che la la mappatura può essere un gioco può essere un elemento isolato può essere in realtà un processo che veramente da una mano a prendersi cura di un territorio e mantenere la qualità molto alta impegna può impegnare dipende da uno quanto si appassiona o quanto vuole contribuire magari ai progetti specifici quindi che si interessano nelle zone e vi faccio vedere che quindi qua fa vedere i filtri che abbiamo applicato prima i filtri si possono salvare ok quindi posso salvare un filtro e dopo ho i miei filtri per esempio io ogni tanto guardo queste zone qui perché mi interessano la cosa interessante è che i miei filtri salvati hanno un codice univoco posso caricarli quindi quando vengo qua ho già dei filtri che ho preimpostato sull'area gli utenti bounding box eccetera e lo carico quindi dico cos'è successo a Padova dal 5 febbraio e mi fa vedere questo è impostato forse ok sì un po' troppa cosa è successo quello che voglio farvi vedere è che sui filtri esiste una cosa molto potenzialmente utile che è la possibilità di di avere un RSS feed quindi c'è un RSS che è una specie di link che ti permette di essere aggiornato su una certa cosa su web in questo caso la query che Osmucha fa per chiedere queste informazioni io per esempio questo lo uso ci sono probabilmente vari servizi che possono farlo io in per la posta uso Thunderbird su desktop e ho aggiunto gli RSS feed che mi interessano quindi quando succede ogni 100 minuti non mi ricordo quando l'ho impostato ho i change set dell'area che mi interessa ogni tanto vado a vedere non quello che ho fatto io magari appunto ma quello che hanno fatto altri utenti posso vedere se c'è qualcosa che non mi torna ok e quindi qua vedete in realtà che ci sono anche si possono fare dei team di lavoro i miei utenti fidati e invece quelli che ti puoi segnare da tenere d'occhio per perché o sono immaturi o ti sembra che siano poco poco pratici o hanno fatto delle cose che a te non tornano invece che vuoi guardare perché ti interessa cosa stanno facendo ok questo che ore sono Marco lo accenno velocemente forse oppure se vuoi aggiungere qualcosa casomai ti aggiungi abbiamo qualche minuto Ale quindi puoi anche farlo vedere ok allora te lo lascio a te questo come vuoi va bene visto che ci hai lavorato direttamente guidami sì allora puoi aprire la pagina questo è uno strumento che in realtà adotta una prospettiva un po' diversa nel senso che diciamo misura la qualità cosiddetta intrinseca dei dati di OpenStreetMap cioè in generale io ho dei dati di OpenStreetMap come faccio a capire se sono dati buoni se sono dati aggiornati se sono dati di cui posso fidarmi o no diciamo in letteratura scientifica ci sono tanti studi in cui si confrontano i dati di OpenStreetMap con quelli ufficiali quindi prendo i dati per esempio a Milano come adesso prendo quelli del comune di Milano li confronto per esempio prendo gli edifici li confronto vedo quanto sono scostati vedo quanti ne mancano in OpenStreetMap eccetera però spesso o i dati ufficiali non ci sono o i dati ufficiali esistono ma magari OpenStreetMap ha più cose quindi è più aggiornato è più completo quindi in realtà fare questo confronto non sempre è possibile quando è possibile non sempre ha senso quindi sono nati anche una serie di meccanismi cosiddetti di valutazione intrinseca della qualità intrinseca vuol dire che valuto la qualità di OpenStreetMap guardando soltanto OpenStreetMap quindi utilizzo una serie di parametri una combinazione di parametri per cercare di capire quanto questi dati potrebbero essere di qualità questo è un esempio molto semplice è un'applicazione che si chiama ISO SM UpToDate ha sviluppato Francesco Frassinelli che è stato mio studente al Politecnico e che ancora mantiene questa applicazione e cerchiamo ogni tanto di aggiornarla con qualche cosa di nuovo e fa una cosa molto semplice in alto vedete 5 parametri in base ai quali i nodi e le way di OpenStreetMap vengono colorati in mappa quindi una cosa molto semplice però adesso quello che stiamo vedendo per esempio è la data di ultima modifica la data di ultima modifica può essere un indicatore utile per capire quanto i dati sono aggiornati quindi i colori e magari Ale puoi accendere anche le way oltre ai nodi esatto grazie e vedete che i colori vanno in una scala la viridis quindi quella che va dal viola blu scuro al giallo vi dice praticamente quanto i dati sono aggiornati in termini di ultima modifica quindi giallo vuol dire modificato molto recentemente per esempio Duomo di Milano tipicamente viene aggiornato riaggiornato riaggiornato in continuazione e altri dati invece sono aggiornati invece hanno l'ultima modifica parecchio tempo fa quindi questa è una prima indicazione magari puoi switchare su revisions revisions è qualcosa di diverso perché vi dà il numero di revisioni quindi il numero di versioni totali di ogni oggetto quindi vedete che se cliccate avete tutti i tag intanto di quell'oggetto e sopra avete per esempio questa è la current version è 3 quindi vuol dire che avete 3 versioni di questo oggetto il Duomo di Milano come dicevo viene modificato in continuazione quindi ci sono 66 versioni questo è il motivo per cui in realtà la scala di colori in realtà è un po' falsata perché come vedete va da 1 a 66 quindi 66 è giallo tutto il resto anche se non è 1 ma magari è 5 6 10 lo vedete scuro però diciamo questo è il discorso vedete qua per esempio 24 però lo vediamo sempre il blu scuro è qualitativa come analisi però dà un'idea soprattutto se combinate questi parametri il prossimo contributors è molto simile contributors vuol dire quanti contributori diversi hanno editato ciascun oggetto anche in questo caso io posso dire che se un oggetto è stato editato da tante persone diverse da tanti utenti diversi più probabilmente sarà di qualità perché tante persone magari hanno aggiunto informazioni diverse e l'ultimo invece è la frequenza di aggiornamento che viene calcolata dividendo il lasso temporale tra la prima modifica e l'ultima per il numero di versioni quindi qui possiamo vedere gli oggetti magari creati e mai modificati e quelli invece che sono modificati molto frequentemente questo è un po' per dare un'idea sostanzialmente di quello che si può capire guardando anche solo i dati di OpenStreetMap c'è ovviamente qualcosa di molto più complesso che si può fare in letteratura ci sono studi che guardano per esempio agli utenti cioè non solo a quanti utenti ma anche a chi sono gli utenti come diceva Alessandro utenti nuovi magari sono utenti di cui ci si fida un po' meno utenti invece con tanti edit sono utenti più esperti quindi diciamo sono nati anche modelli più o meno complessi per cercare di dedurre la qualità dei dati solo dai dati stessi in particolare dalla storia questo è il grande vantaggio di OpenStreetMap non abbiamo solo i dati ma come abbiamo detto più volte abbiamo anche tutta la storia dei dati quindi chi ha fatto cosa e quando e questo può aiutare a valutare diciamo intrinsecamente la qualità questo è quanto quindi vi invito poi ad andare a vedere a giocare con le vostre aree di interesse e a monitorare anche la vostra zona perché no anche in questo senso assolutamente sì diciamo sono tutti stimoli ovviamente cercare di dedurre la qualità dei dati solo dai dati stessi in particolare dalla storia questo è il grande vantaggio di OpenStreetMap non abbiamo solo i dati ma come abbiamo detto più volte abbiamo anche tutta la storia dei dati quindi chi ha fatto cosa e quando e questo può aiutare appunto a valutare diciamo intrinsecamente la qualità questo è quanto quindi vi invito poi ad andare a vedere a giocare con le vostre aree di interesse e a monitorare anche la vostra zona perché no anche in questo senso assolutamente sì diciamo sono tutti stimoli ovviamente a diversi livelli dall'inizio dell'esplorazione alle prime modifiche all'estrazione di dati all'editing all'analisi della qualità a livelli diversi ovviamente poi si può continuare ci sono potenzialmente altre cose ma credo che sia una panoramica più possibile ampia in questo intervallo temporale che ci eravamo presi e qui una slide un po' riassuntiva su comunque alcune informazioni comunque i link sono tutti nelle slide che verranno caricate appena finiamo e passiamo agli organizzatori e come alcune informazioni di base come il primo Learn OSM che è anche in italiano una guida base per chi inizia però comunque ha dei link a cose anche avanzate la mailing list di cui abbiamo parlato anzi qui sono questa è la lista di tutte le mailing list del mondo per street ma quindi anche internazionale questa secondo me è quella fondamentale nel senso che è quella italiana Talkit a cui vi suggerisco se siete interessati insomma a descriversi di scrivervi c'è un gruppo Telegram qui anticipo insomma quando vi scrivete se vi scrivete è un gruppo in cui vi presentate poi venite invitati formalmente diciamo in quello ufficiale come filtro in cui c'è una discussione più agile curiosità primi confronti per diciamo fissare avere anche un riferimento citabile e rintracciabile la mailing list è sicuramente più importante poi ci sono dei canali social ma ripetiamo la wiki è l'elemento o i wiki sono sempre indeciso ufficiale per la documentazione di tutti gli elementi di cui abbiamo parlato e credo che siamo arrivati alla fine io sì questi sono le nostre mail ufficiali diciamo il link su twitter su cui siamo abbastanza attivi entrambi ma per il mondo per street map credo che insomma fate riferimento alle mailing list ai canali che abbiamo suggerito per essere coinvolti per informarvi per iniziare a guardare o ad annusare se è una cosa di vostro interesse oppure per chiedervi consigli più specifici io bloccherei la condivisione siamo credo sì a cinque minuti dalla fine e credo che ci sono magari altre domande a cui rispondere o se qualcuno vuole intervenire sì Ale ci sono delle domande allora ne ho tenute un paio per la fine perché sono possiamo approfondirle un attimo te ne faccio magari un paio che sono più puntuali allora uno è una domanda è questa è relativa al discorso sulla qualità però l'utente dice mi scuso se ho perso a pezzi però è stata lunga c'è un modo per vedere quale utente ha implementato ha mappato determinate informazioni cioè lo chiedo sempre per un discorso legato alla qualità del dato dice ok allora come abbiamo fatto vedere prima posso ricondividere ma cioè ci sono le ma faccio vedere sì ricondivido ci sono delle pagine sono quelle anche che hai fatto vedere tu Marco che descrivono allora vado vado sulla mia questa è la pagina di OpenStreetMap quindi gli utenti si trovano su openstreet.org user e poi il nome dell'utente e fa vedere per esempio la prima cosa che ti permette di fare tutti gli edit quindi si può andare indietro e vedere quali edit sono stati fatti e quindi cliccare su ciascuno di essi man mano che si va indietro nel tempo in pratica che vengono caricati quella quella pagina di Pascal Neis how do you eccolo qua permette di avere delle statistiche sulle informazioni che vengono mappate sui giorni di attività le aree o i tag più utilizzati e le modalità di mappatura su osmcha che avevo fatto vedere prima in pratica si può filtrare corro un po' ma penso che sia utile tra i vari filtri oltre la data il bounding box ci sono anche molte altre informazioni tra cui anche l'utente io posso dire voglio vedere cosa ha fatto cosa ha fatto Marco in generale e quindi questo per esempio un'ora fa ha mappato qualcosa con questo documento infatti ha mappato quello che abbiamo visto che stava mappando su tasking manager e quindi posso vedere gli utenti cosa hanno fatto dove interagire e comprendere cosa hanno fatto o te stesso perché è utile anche magari ah cavolo due mesi fa ho modificato quello non mi ricordo più dov'era oppure anche altri Ale se posso fare complementare puoi aprire openstreetmap.org e aprire una zona qualsiasi diciamo se io invece per esempio sono un utente vedo un dato che non mi convince a sapere chi l'ha mappato quindi io ti dico per esempio ma poi uno zoom su una casa per esempio o qualsiasi zona poi se a destra apri la visualizzazione dei dati questa è una cosa che al volo forse può aiutare se la domanda poteva anche essere relativa a questo qua con questo flag esatto adesso se tu clicchi su un poligono in questo caso a sinistra viene fuori chi l'ha mappato per esempio questo vedete oltre 4 anni fa dall'utente rowers 2 e si può cliccare sull'utente o cliccare sul change set quindi qui si può avere più informazioni sull'utente se magari anche questo può aiutare e una cosa che non è così intuitiva adesso a parte questo quindi bisogna cliccare layers e aprire questo occhio che carica i dati quindi se la mappa è molto lontana è molto impegnativo una cosa normale che si può fare sempre è o con questa freccetta query features o col tasto destro query features su un punto qualunque fa un piccolo buffer e interroga cosa c'è là sotto quindi ti fa vedere che c'è un edificio quindi un'altra modalità per interrogare il database puntualmente grazie Ale c'è una domanda che è molto precisa però rispondiamo veloce una domanda per la mappatura delle piazze se contengono delle vie e o giardini e o aree pedonali che le attraversano vanno mappate anche come area nel loro complesso oltre che con gli elementi singoli e qui se posso rispondo velocemente nel senso non è proprio la cosa più facile da mappare quindi non è per principianti bisogna andare a leggere la wiki delle piazze che naturalmente è una wiki che a me è capitato spesso di leggere per capire qual è la piazza dove inizia dove finisce come funziona con la piazza in sé che può comprendere più cose non solo l'area pedonale ma qualcosa in più quindi sulla wiki c'è una descrizione fatta se ricordo bene bene l'idea e questo si ricollega anche un po' a un'altra domanda che c'è è sempre partire andare per per gradi e leggere sempre le wiki però diciamo qui quindi rimando alla wiki per la definizione perché le piazza sono un caso che può essere complesso una cosa che fosse a parte la pagina map features che avevi fatto vedere all'inizio questa è la wiki entri in inglese e va bene così io parto quando ho qualche dubbio sempre dal search scrivi piazza anche in italiano va alla ricerca di informazioni che riguardano la piazza e vedete che per esempio c'è questo mi sa che è in polacco comunque riesci a vedere ecco qua place square è il tag che mi definisce quindi cercando le informazioni mi sa che è un po' bloccata la rete si può andare alla ricerca di qualcosa che si avvicina a quello che stai cercando tu e poi vedi che c'è anche la pagina in italiano quindi e qui ci sono varie informazioni sempre fatte riferimento a quelle inglese perché sono più complete di solito se posso aggiungere un altro un'altra strada utile è quella di andare a vedere come sono mappate delle piazze già esistenti in OpenStreetMap quindi quelle danno chiaramente un'idea di come mapparne altre che ancora non ci sono poi due domande allora una anche qui si può approfondire però magari stiamo brevi perché siamo oltre le sei e mezza quindi ringrazio anticipatamente chi ha il coraggio e la pazienza di rimanere allora oltre agli elementi urbani su cui credo ci siamo focalizzati di più oggi è possibile mappare percorsi di trekking e elementi geologici di interesse turistico e non vai tu sì entrambe le cose allora waymark come si chiama eccola qua sì per quanto riguarda il trekking esiste una OpenStreetMap diciamo che è il top rispetto a qualunque altro tipo di mappatura perché ci sono molti utenti che proprio sviluppano approfondiscono queste componenti della mappa e ci sono delle visualizzazioni apposta come questa è che fa vedere proprio le tracce con anche le vie numerate c'è una collaborazione specifica in Italia con i CAI quindi diciamo che ci sono degli utenti veramente ferrati sulla mappatura della sentieristica che è veramente uno dei motivi per cui forse vale la pena di utilizzare OpenStreetMap anche solo per questo perché effettivamente in Italia quantomeno zona più zona meno è assomappata benissimo e ci sono delle visualizzazioni apposta che permettono poi di esplorare di avere informazioni di dettaglio su questo e l'altra seconda era elementi geologici elementi geologici ci sono dei tag che permettono di definire proprio elementi geologici rilevanti come la cascata oppure la punta col punto panoramico o degli elementi dei massi particolari cioè si va veramente nel dettaglio oppure elementi geologici come delle scarpate o delle frane o delle pianure ovviamente elementi geologici sotterrani come una mappa geologica non è una cosa verificabile quindi non è un elemento che diciamo ha posto primariamente in OpenStreetMap ecco quindi sono elementi che possono essere anche visibili e quindi mappabili aggiungo solo sul trekking vi sto incolando nella chat il link a una riunione della comunità Lombarda di OpenStreetMap del 28 gennaio quindi di un paio di settimane fa in cui si è parlato proprio anche di questo c'erano anche dei relatori del CAI quindi chi è interessato al trekking come si mappa cosa si può usare eccetera può riferirsi a questa pagina c'è il video dell'incontro quindi molto interessante devo dire c'erano due o tre presentazioni proprio su questo tema infine ultima domanda più generale forse con cui si può chiudere e fare proprio un cappello conclusivo Ale lascio a te la domanda è vediamo se la ritrovo ecco qua qualche consiglio per chi usa strumenti GIS da tempo e vorrebbe iniziare a contribuire su OSM da cosa iniziare per non fare troppi danni rapporti con la comunità eccetera allora ma poi aiutami anche tu e ricompari pure anche tu in video sto pensando un po' come iniziato io nel senso che mi verrebbe da se non ci sono già degli elementi con uno super esperto che quindi potrebbe partire da quelli nel senso che ha una grande conoscenza tematica e quindi potrebbe contribuire molto concretamente la cosa più semplice è di mappare una zona qui vivi o comunque in cui passi con degli elementi minimali adesso quindi cose semplici che magari ti fanno entrare un po' nel mondo OpenStreetMap senza pensare di editare relazioni o fermate degli autobus cose complesse land use il mio consiglio è veramente parti dagli elementi come un edificio se magari ce n'è uno nuovo e lo vedi puoi fare un poligonetto e poi ci aggiungi pian pianino i livelli e poi la forma del tetto se vuoi aggiungi il lampione sotto casa tua che è un punto ma incominci a guardare la wiki e quindi vedi il tipo di tagging e io mi sono iscritto abbastanza presto alla mailing list si può stare un po' silenti e quindi si legge su cosa si discute alcune cose sono impressionantemente interessanti altre noiose altre sembrano inutili però in realtà si comprende un po' come funziona la comunità e poi pian pianino se uno ha competenze tecniche poi parte magari da ID ma poi con JOSMA secondo me se uno è abituato a GIS si capisce molto in fretta e poi la parte diciamo di editing non è così complicata è come forse questa persona diciamo ha commentato entrare un po' nella comunità e sul funzionamento è molto importante perché dopo è molto anche comunitario si può agire in modo isolato ma funziona molto meglio soprattutto poi se si partecipa ai lavori insieme aggiungo ultima cosa che dico io normalmente in epoca non covid ci sono vari eventi anche locali in cui è bello trovarsi per mappare con certi obiettivi specifici o per migliorare una zona ci sono app in party ci sono degli eventi annuali come l'OSMIT o anche le conferenze del GFOS FOS4G che è un luogo di raduno ancora di più faccio un passo in più ripetiamo Wikimedia Italia è l'associazione che in Italia supporta e coordina da un certo punto di vista anche le attività quindi capire anche come si può contribuire più in generale non solo a parte ma su conoscenze aperte o la libertà in generale può portare dentro elementi di supporto ci sono molti link tra GFOS quindi software open source geografico open street map Wikipedia scienza aperta è un mondo affascinante insomma per chi vuole approfondire io posso solo aggiungere due cose forse anche per me vale più o meno la stessa cosa chi già mastica di GIS non dovrebbe fare poi così tanta fatica a iniziare a contribuire attivamente io ho trovato molto utile la guida Learn OSM che Alessandro ha fatto vedere all'inizio molto piacevole da leggere molto molto ben fatta quindi veramente hanno speso tanto tempo a farla ma vale la pena partire così partire con ID poi andare su Josm quindi farlo per gradi partire da mappare la propria casa il proprio quartiere e a partire dalle cose più semplici poi andare nel dettaglio sempre se non si è sicuri chiedere quindi chiedere mailing list chiedere su Telegram chiedere a chi anche personalmente a chi a noi per esempio mandare una mail dire cioè non fatevi problemi perché anche io anche Alessandro abbiamo imparato abbiamo iniziato così assolutamente perché anch'io mi sono trovato ad esempio per dei progetti anche col lavoro a dover inserire dei dati più o meno complessi ho semplicemente contattato qualcuno ho chiesto ho scritto mailing list ho raccolto informazioni quindi funziona proprio così ultima cosa mi aggancio a quello che diceva Alessandro purtroppo siamo in queste condizioni in cui non possiamo incontrarci dobbiamo fare anche questi workshop che sarebbero volentieri potrebbero volentieri essere tradotti in workshop diciamo di persona vi invito però intanto quando sarà modo quando ci si potrà tornare a incontrare a seguire a seguire il convegno annuale che è il Post4G italiano e a iscrivervi appunto alle mailing list perché lì troverete annunci di incontri raduni eccetera a livello anche regionale o locale e ultima cosa Ale se puoi rifar vedere l'ultima slide con i nostri contatti forse può essere utile anche a noi avere magari qualche spunto anche di insomma di cosa è piaciuto cosa no di questo workshop nel senso che appunto avendo solo il feedback della chat non si riesce spesso a capire ma ci interesserebbe molto visto che non è il primo che facciamo e non sarà probabilmente neanche l'ultimo non so se mi senti Ale ma Marco nel frattempo colgo il tuo suggerimento e invito tutte le persone che hanno partecipato anche a compilare un form anonimo che trovano sul sito dei webinar nel quale possono dare consigli suggerimenti e anche non dico valutazioni ma degli spunti di riflessione che possono permettere non solo ai relatori di diciamo di magari modificare un minimo il tiro sui prossimi eventi ma anche alla GFOS nell'organizzazione degli stessi per cercare di migliorare sempre perché appunto il fatto viene fatto tutto a livello di volontariato e a livello di mettere a disposizione le competenze che ognuno ha e oggi voi ci avete veramente regalato una serie di nozioni ci avete ingolosito oltre che stuzzicato su tutta una serie di aspetti che sono certo saranno utili a tutti noi sotto varie forme per poter partecipare a questa grande comunità per poter portare il nostro piccolo contributo non solo come utilizzatori ma anche chissà mai come mappatori o sviluppatori per chi è in grado di farlo questo sicuramente perfetto grazie per la pazienza e per quelli che hanno resistito fino a ora e anche un po' prima insomma grazie Paolo per l'organizzazione a GFOS GEM e a Marco insomma tutti voi io credo di potermi unire ai ringraziamenti che stanno arrivando in chat e oltre a quelli appunto al nome delle associazioni GEM e GFOS.it perché veramente ci avete regalato la vostra competenza la vostra conoscenza la vostra disponibilità e gentilezza che è sempre è sempre bello nonostante appunto ci sia la difficoltà nell'incontrarsi di persona però insomma è sempre bello poter passare del tempo assieme quindi di questo vi ringrazio a nome direi proprio di tutto di tutti anche perché vedete che in chat stanno arrivando un sacco di ringraziamenti e di complimenti perché avete fatto veramente come sempre un ottimo lavoro grazie Paolo e grazie a tutti io vi ricordo solo il prossimo webinar che esiterà alla fine del mese il prossimo sarà il 26 di febbraio dove parleremo di dati catastali e certificati di destinazione urbanistica in QGIS quindi vi lascio con questo appuntamento per la prossima il prossimo evento i contatti dei relatori che ringrazio nuovamente li trovate nella slide per qualunque cosa contattateli pure contattate anche GFOS per ulteriori domande chi volesse degli attestati di partecipazione può scrivere alla mail info chiocciolagfos.it per avere l'attestato ok le slide così come le slide saranno disponibili verranno caricate sulla pagina dei corsi così come il video che verrà un minimo editato è reso disponibile sempre nella pagina di questo ciclo di eventi ok grazie a tutti davvero ciao buona serata buona serata ciao grazie